ciao ragazzi bentornati sul canale di gameplay di ivan ridoni oggi cominciamo una nuova serie di gameplay stavolta giocando a new super mario bros il capostipide di una nuova saga di giochi di piattaforme di mario uscita per nintendo ds così con la scusa inauguriamo anche il nintendo ds che sul mio canale ancora non avevo mai portato quindi cominciamo file 1 non ho mai terminato questo gioco quindi lo riscopriamo insieme godiamoci l'introduzione oh bene nulla di nuovo per quanto riguarda la trama la principessa è stata rapita stavolta da baby bowser evidentemente la lezione che gli abbiamo dato poco tempo fa su super mario sunshine non gli è bastata ok il gioco si presenta molto sulla falsa riga e in pieno omaggio di super mario bros qui abbiamo una mappa che riprende super mario bros 3 e anche un po super mario world con i livelli e nei due schermi abbiamo i vari campi a sinistra al campo di gioco e a destra la posizione di mario sui livelli le strade che abbiamo trovato sbloccato e così via cominciamo dal primo livello giustamente si parte da davanti il castello di peach e chi ha giocati i primi giochi qui si sentirà praticamente a casa dal punto di vista della giocabilità poco è cambiato certo il controllo su mario è migliorato notevolmente blocchi da rompere monete da raccogliere gomba da schiacciare e tubi in cui no qui non ci si entra in cui entrare allora andiamo avanti o questo questa è una novità di questo gioco diventiamo mario gigantesco e spacchiamo tutto tuttavia evitiamo di colpire i tubi e tra poco vi spiego anche il perché ma intanto corriamo più cose distruggiamo e più punti facciamo più punti facciamo e più vite prenderemo alla fine del livello ora come stavo dicendo nella parte destra dello schermo noi vediamo i vari punteggi di gioco cioè il numero delle vite il livello in cui ci troviamo e quante monete stelle abbiamo raccolto ce ne sono tre per ogni livello e raccogliendo le tutte potremo accedere a vari bonus ora io sto tornando indietro non ho distrutto il tubo perché ecco qui si può entrare per recuperare la monetona di mezzo ora sul nintendo di s originale qui lo schermo passava dal superiore a quello inferiore tuttavia io in fase di montaggio manterrò le cose manterrò gli schermi identici altrimenti uno ci diventa stupido anche perché uno sarà più grande uno sarà più piccolo quindi voi non vi accorgerete praticamente di nulla comunque abbiamo raccolto il terzo monetone ora possiamo correre a finire il livello da notare che i nemici saltellano a tempo di musica fantastico ok tu vieni con me la fine del livello è proprio un classico omaggio a super mario bros dobbiamo arrampicarci in cima ad una bandierina è il primo livello lo abbiamo fatto tre monete e abbiamo guadagnato un fiore del fuoco ok qui oltretutto ecco di tanto in tanto ci saranno dei bonus svolazzanti che ci capiteranno più o meno davanti al percorso per quanto riguarda i livelli come in super mario world i livelli blu sono plastici livelli mentre i livelli rossi indicano che c'è probabilmente un'uscita secondaria vediamo se riusciamo a trovarla al primo colpo oh ecco qua sulla mappa c'era venuto incontro questo bonus e noi ce lo prendiamo un fiore vabbè già ce l'avevamo tuttavia è andato nella riserva come super mario world abbiamo come stavo dicendo prima la riserva all'in basso che appena la sfioriamo ci regalerà il bonus conservato scendiamo oh soldi e anche una vita buono pom 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 oh 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 eh vabbè c'è anche un altro modo per raccogliere questi blocchi ed è saltarci sopra e fare una schiacciata se ce ne capita un altro faccio in tempo vi faccio vedere intanto raccogliamo così questi sono questi sono eccolo qui ci siamo riusciti è un modo come un altro per raccogliere tutte in un colpo solo e spesso otterremo dei bonus mi pare che qui non ci fosse nient'altro opla e allora niente niente avanti qui invece oh lì c'è un monetone ah qui si può anche rimbalzare sulle pareti se ci riesco così abbiamo preso la prima moneta di gioco perfetto qui non c'è altro e allora proseguiamo altro fiore oh ecco ce la faccio a saltare qui si ah un'altra cosa caratteristica di questo gioco è che possiamo fare per la prima volta in un gioco a piattaforme di mario con un sia in 3d il triplo salto mortale quindi prendendo la rincorsa uno due e tre ho dato una craniata ma comunque l'avete visto qui c'era qualcosa che ah pensavo che mi tornasse addosso ora qui attenzione perché c'è uno strapiombo qui si potrebbe oh mamma aspetta calma guarda come te la rischi eh ah vedi lanciando il guscio possiamo raccogliere le monete perfetto catapulta attenzione c'è un'asse basculante tiè qui magari c'è un gruppo di monete proviamo a schiacciare esattamente un fungo non va ok non va solo a scrivere il bonus che abbiamo di riserva allora oh 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 seguiamo piante carnivore qui sotto oh una stella però aspetta prima di fare qualsiasi cosa io voglio vedere se come nei vecchi giochi si può entrare ok non ricordo quasi nulla di questo gioco il che è meglio perché così la scoperta è ancora più bella la riscoperta cosa c'è qui quella intanto si sta svegliando ma ecco fatto da notare come anche il suono sia in stereo cose che succedono all'estrema destra si sentiranno a destra e viceversa con la sinistra ok abbiamo raccolto due monete stella manca la terza oh mamma mia per un pelo e in questo livello in questo livello in questo gioco sarà molto facile essere colpiti e morire quindi non mi faccio illusioni proseguiamo un'altra un'altra asse basculante dunque mi sembra di ricordare che il l'uscita secondaria fosse qui sopra tuttavia io adesso prenderò l'uscita principale oh mamma così sblocchiamo entrambe le strade se era lì e ricordo bene quindi oppla manca una moneta stella ok intanto abbiamo sbloccato la strada principale ora io rientro nel livello taglio naturalmente e riprendo prima di prendere l'uscita secondaria a tra poco ok eccoci qui abbiamo anche trovato un fiore di cui ignoravo l'esistenza questa è la seconda asse basculante quindi noi la facciamo intanto togliamoci le scatole questa tartaruga la facciamo inclinare al massimo e saltiamo qui sopra ok ricordavo bene quindi prendiamo la terza moneta e ce ne andiamo ah naso che prude e notiamo che abbiamo preso l'uscita secondaria anche dal colore della bandiera che in questo caso è rossa altrimenti quelle classiche sono nere e anche questo è fatto mi rilassa questo gioco almeno per ora siamo ancora al primo mondo e abbiamo trovato un'uscita secondaria che ci porta ad una casa di toad tuttavia la visito più tardi qui c'è un altro livello e oltretutto lì c'è un cancello che ci conduce ad un'altra casa di toad dove però bisogna pagare 5 monete noi ne abbiamo beh in questo momento non voglio vedere perché altrimenti cado fiore anche questo livello qui riporta molto al primo super mario bros in quanto i livelli prima del castello erano sempre ambientati su questi funghi e prendiamo anche una vita vai oh mamma cosa ho fatto ho fatto bene e abbiamo preso anche la prima moneta scendiamo pian pianino oh mamma preciso vai seconda moneta poi naturalmente capiterà che qualche volta mi dimentico una moneta qua e là tuttavia se ci riesco e se c'è tempo tornerò a prenderle anche se ancora non ho deciso se finire questo gioco al 100% se provarci ok intanto le tre monete le abbiamo prese e anche questo livello per ora lo abbiamo finito penso al 100% oh lo stesso countdown di Yoshi's Island una vita buono siamo a 12 attenzione alle tartarughe rosse che fanno avanti e indietro senza suicidarsi mamma mia questi funghi uh 8000 punti 8000 bravo Mario bene non c'è male non c'è male e lì c'è anche un bonus che ci aspetta non è vero si è spostato qui dunque noi abbiamo 9 monete stella andiamo ad aprire questo cancello ti servono 5 monete stella per passare da qui vuoi spenderle? eh certo se no che cosa le cerco a fare? puoi salvare? sì è un fungo verde quindi in teoria dovrebbe essere un bonus che ci fa guadagnare delle vite Mastro Toad oh ok il solito giochino di fortuna vediamo un po' nooo porca miseria ah beh però intanto una vita ce l'ha data meglio di nulla va bene ma questo bonus lo possiamo rifare quante volte vogliamo naturalmente no va bene allora sto dimenticando qualcosa no allora entriamo nel castello 13 vite oh ah ok pensavo che sprofondasse eh qui senza mantello e nient'altro sarà un problema eliminare questi scheletri e che cosa c'è? monete aspetta calma facciamoli riaprire e soldi piano andiamo con cautela che qui a diventare una sottiletta un attimo due di qua due di qua inquietante questa musica oh mamma no ho sbagliato mamma mia ho sbagliato tantissimo ok aspettiamo facciamogli fare il loro giro e corriamo oh ok qui intanto c'è la prima moneta credo che sia la prima moneta sì ah peccato non le prenderò tutte tuttavia una vita l'abbiamo presa fiore sì vabbè che tanto già ce l'abbiamo in riserva e dai oh stavo veramente per perdere tutto stupidamente tiè a posto proseguiamo oh aha saltiamo qui saltiamo lì ok aspetta vediamo prima cosa c'è di qua oh e lì c'è una po' eh qual è la porta vera vabbè visto che ci siamo proviamo questa oppa lì c'è anche una moneta quindi a prescindere dovremmo tornare a destra dopo porca miseria aspetta calma oh mamma mia calma mi sembra che lì a destra si può passare no dunque oh sì ottimo quindi mazzarola però vedi qua serviva qualcosa ehm un guscio non c'è niente ok una vita aspetta facciamo scendere la vita perché li conosco questi trucchetti no non è vero pensavo ci fosse qualcos'altro no quindi dobbiamo tornare qui con il costume da guscio probabilmente in modo da rotolare aspetta dove sono ricomparso devo scendere per prendere quell'altra moneta eh sì ok meno male però aspetta prima prima di fare qualsiasi cosa voglio andare sopra voglio quella moneta visto che ce l'ho sotto al naso ecco e sapete che vi dico pazienza andiamo avanti e basta porca miseria beh comunque le monete le abbiamo prese quindi non dovrebbe essere un problema anzi meglio perché così posso andare a cercare il guscio e faccio una rapida ricerca vediamo chi me lo da nulla ho gironsolato un pochino ma non lo trovo vediamo se entriamo nella casa di toad che cosa fa ci da un fungo ah no la slot machine ok 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 ce l'abbiamo fatta mamma mia bene ora ci possiamo provare ah ok pensavo che me ne dovevo andare va bene ok allora andiamo a rifare il castello ovviamente taglio e riprendo lì dove c'è il passaggio a tra poco ok eccoci qua per prima cosa riprendiamoci la vita quindi qui usando il guscio vediamo un po' eccoci la in teoria dovremmo poter sfondare qui corriamo oh mamma ottimo aspetta calma ah di nuovo ok prendiamo una bella rincorsa ma se vado qui sopra invece che succede? nulla va bene ci ho provato quindi sfondiamo tutto qui mannaggia bene ed entriamo no ricordarsi sempre che se corriamo con questo costume ah e proprio ci porta direttamente all'uscita del castello vediamo se riusciamo a prendere un po' di rinc... non era questo quello che volevo fare oh oh no aspetta calma ora ci devo riuscire aspetta e la figo anche una vita quindi in questo modo usciamo senza senza affrontare il boss tuttavia manca ancora una moneta e affrontare il boss stesso quindi intanto qui abbiamo sbloccato un cannone per la terza volta entro ma stavolta vado direttamente alla fine così affrontiamo il boss a tra poco eccoci ah ok questa non era una porta quindi a prescindere abbiamo preso la strada giusta va bene ora saliamo prendiamo il terzo monetone cerchiamo di non farci schiacciare come dei polli stavolta ok ok e ok ah andata e quel tubo a che serve non lo so forse era una uscita ah ops ok ci siamo quelle si riaprono si cosa c'è qui pazienza non mi importa porta del boss ah direttamente direttamente baby bowser oh ma quanto sei carino oh occhio attenzione che diventa che si chiude no ok lo abbiamo sconfitto tre colpi bene bene ah però si rialza e scappa mi sembra ovvio sembrava facile ah qui c'è il vero scontro questo era un boss medio ora voglio andare avanti qui c'è l'accesso per una casa di tod tuttavia lo vedremo dopo qui c'è un livello rosso quindi dovremo trovare l'ingresso segreto oppure c'è comunque un'uscita secondaria iuuu fico siamo ancora mario guscio o mario conchiglia oh mamma tuttavia per il momento ah no giusto ok il bonus aggiuntivo che prendiamo va ad aggiungersi direttamente alla riserva non ricordavo no lo volevo uccidere tutto insieme qui c'è un passaggio stretto e quindi ah intanto prendiamo le monete parapapam quella se ne va no aspetta togliamola di mezzo se ci riesco maledizione vieni qui oh to e pussa via mi sembra che era qui che ci dava eccolo qua il fungo che ci rende mini mario così possiamo infilarci nei buchi più stretti e in questi tubi qua là come mini mario saremo talmente piccoli e leggeri da poter correre addirittura sull'acqua prendiamo la prima moneta no maledizione guardate ecco ovviamente essendo piccoli subiamo diversamente la forza di gravità e potremmo fare salti molto più elevati comunque abbiamo preso la prima moneta ora quando siamo in queste condizioni in realtà siamo estremamente vulnerabili e possiamo essere uccisi praticamente subito infatti vorrei trovare qualche altro bonus no magari un funghetto non mi dispiacerebbe eccolo grazie qui c'è una tartarou oh ok la lanciamo qui e le facciamo distruggere tutti questi blocchi scena già vista in super mario bros 3 ok e c'è anche una vita vediamo se riusciamo a prenderla rischiandola via prendiamo una vita rischiando la vita ok qui cos'altro c'era ma se io schiacciavo qui forse potevo entrare in qualche modo non lo so potrei provare sacrificando il fiore magari un'altra volta vediamo se qui si può entrare ok 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 lì sopra c'è un monetone giallo che ci sono aspetta un attimo da qualche parte ci deve essere un blocco power oppi eccolo infatti era scontatissimo perché questo trasforma le monete in blocchi e viceversa vediamo se facciamo in tempo beh non le abbiamo prese tutte ma in compenso l'importante è prendere il monetone stella qui non è che c'è qualche blocco naturalmente no avanti allora oh moneta qui attenzione come la prendo devo essere lì c'è un passaggio stretto forse dovevo essere ancora mini mario porca miseria tocca da rifare anzi forse no forse se ci sono le tartarughe che respawnano saltando di qua di là ok forse ho la soluzione vediamo se ricordavo bene e no speriamo che non mi si risvegli addosso porca miseria sono morto ok rifacciamo comunque penso che il metodo era quello riproviamo sì grande funzionava vediamo qui cosa c'è ah sì era il blocco di prima ok quindi abbiamo finito anche questo livello in pratica raccolto tutte e tre le monete andata bene così quarto livello del primo mondo abbiamo 10 monete stella e in realtà potrei anche provare a sbloccare ma sì dai vediamo che cosa ci dà in fondo le monete ci servono proprio per sbloccare questi percorsi vuoi salvare e certo che sì ok vediamo un po' maestro toad che ci dai oh quindi questo si va ad aggiungere al nostro bonus in inventario buono potremmo usarlo se serve anche se a ripensarci forse avrei fatto meglio a lasciare quella casa inesplorata qui paghiamo altre 5 monete ed accediamo a quello che penso sia un mondo acquatico con doppio ingresso salviamo e andiamo e rai go e infatti si entra probabilmente ci sarà da nuotare e infatti va bene oh ottimo il fiore sott'acqua è buono come il pane monetine oh oh il livello è diventato a scorrimento automatico guarda che bella l'effetto delle alghe ok meno male che possiamo uccidere gli squali ho rischiato veramente tanto mi sta perché mi prude sempre il naso quando gioco ah cosa ci da questo ah monete figo oh mamma ma mi uccidono o rimbalzo ok rimbalzo attenzione non stiamo vicini al bordo perché se appare qualche moto oh vita altra vita ok oh no no ok l'abbiamo presa grande invece cosa c'è ho rischiato di perdere quella moneta oh ambedi ma meno male che sono entrato qui pensavo fosse un bonus tanto per invece c'era la seconda moneta pom pom e via e via quanti pesci ok abbiamo anche preso il checkpoint e un fiore oh stavolta gli squali arrivano da dietro monete rosse non sono importanti come su Yoshi's Island Mario 64 ok non mi interessa ci avrebbero dato una vita lieto di potermele perdere mamma mia quanti squali un altro blocco piiii pensiamo più che altro a salvare la pellaccia mamma mia chi è qui oh da questa parte oh ok abbiamo preso tutte e tre le monete le monete stella e e siamo arrivati buono andiamo prendiamo un po' di rincorsa vediamo se riusciamo eh no soltanto 8000 punti comunque abbiamo 19 vite e non stiamo affatto messi male qualche vita lungo il percorso l'ho persa ma su via non sono espertissimo di questo New Super Mario Bros quindi è normale quindi abbiamo aperto la porta alla casa di Toad e qui si va al castello finale di questo mondo tuttavia io voglio farmi quel livello lì sopra tutti voglio vederli via e ragù bene ok oh qui ci sono tutte piattaforme di funghi eh un fiore vediamo un po' se premo al momento giusto se mi da più slancio esattamente eh dovrei impararmi a darmi lo slancio eh questo cosa ha? monete ok prima moneta stella semplicissima fortunatamente oh oh uh uh grande uh mamma mia avevo preso lo slancio meno male che non sono caduto di sotto e riecco le maledette bilance che abbiamo già visto anche in Super Mario Bros e anche Super Mario World trovata la seconda la seconda moneta stella facciamo estrema attenzione si siamo entrati dove ci ma? uh ok occasione per prendere un po' di monete chissà chissà se qui c'è un'altra moneta stella nooo sono caduto peccato ok in caso se se non troviamo no questo è il checkpoint quindi siamo a metà livello in teoria la moneta stella dovrebbe stare ancora un pochino più avanti in teoria ma al che vada taglio e torno a cercarla certo che se non imparo a darmi lo sla oh vediamo se riusciamo a prenderle tutte ancora una sì bene vita mamma mia proseguiamo qui uh grande vabbè finchè si tratta di funghi dovremmo riuscire a prendere una vita yes e abbiamo anche preso i funghi ora attenzione allo slancio qui soprattutto attenzione a questo goomb eh no probabilmente la moneta stella stava lì sopra ok usciamo faccio un breve taglio e riprendo da dove ipoteticamente dovrebbe stare rifarò quel livello bonus a tra poco stavolta me ne frego delle monete rimaniamo ben saldi e vediamo se c'è la moneta la moneta stella anche perché altrimenti non so in quale altro posto cercarla oh e infatti stava qui tutto a posto ok ci vediamo alla fine del livello oppa ok fatto anche questo apriamo questa porta e questa dovrebbe essere una casa che ci da delle vite extra salviamo here i go here i go ah ok lo stesso gioco di prima vediamo se stavolta abbiamo un po' più di fortuna ok proviamo oh questa questa no questa oh porca miseria l'ho fatto perfetto mamma mia le vite benone grazie mille Mastro Todd sempre lieto di vederti bene e ora possiamo andare con tranquillità ad affrontare l'ultimo castello di questo mondo vai 35 vite oh mamma ah ok su questa ci possiamo camminare sola aspetta ok ci possiamo dare uno slancio se prendiamo la massima rincorsa quindi così salteremo in alto va bene occhio a non cadere nella lava perché naturalmente è morte certa saltiamo di piattaforma in piattaforma tanto lo so che prima o poi ci cascherò dentro vai vai alzati prima che si sveglia ok di corsa qui e qui sopra ah non posso fare eh beh come era logico aspettarsi tante monete va bene aspettiamo il prossimo turno oh no ah ok ok rimbalzo vai era la prima si anche perché altre non ne ho viste ora attenzione checkpoint fiore vediamo un po' se ci riesco a me posso arrivare quasi alla cima del livello con questi salti e rincorsa oh mamma oh mamma lasciamo perdere quella moneta e quella come cavolo la prendo ah c'è una piattaforma che riaffonda subito ok eh ho visto oh oh c'è un tubo meno male che si è spostato il livello se no non l'avrei mai visto mamma mia questa è stata una botta di fortuna ok perfetto abbiamo preso tutte e tre le monete ora possiamo andare con tranquillità a combattere il boss beh dai tutto sommato è stato abbastanza semplice sicuramente più semplice delle precedenti monete oh omaggio a super mario bros 3 con le statue di bowser che c'è oh bowser junior ciao te ne vai eh si oh bowser dunque in teoria dovrei poterlo battere con le palle di fuoco oh oh inquietante si è sciolto nella lava ora ci sarà toad grazie mario ma la principessa è in un altro cast oh no eh sarà una corsa fino alla fine del gioco probabilmente mhm sabbia e piramidi e fiori salve posso ucciderti grande no aspetta forse non erano ottime idee no si invece oh calma oh ma quello quindi ma quello quindi non è che posso rimbarsagli questo è un blocco che non con fico quindi col pendolo da sotto si pian piano si alza togliamo di mezzo questo dopo un po' torna alle condizioni normali bello aspettiamo che si riabbassa e andiamo 2 3 4 fino a quanto lo posso alzare di 4 blocchi e no vabbè due monete possiamo lasciarceli andare ok prima moneta stella di questo livello voilà che piramidi una lì dietro attenti uccido subito senza troppi complimenti pom 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 questa piattaforma probabilmente serviva per superare questo vermone in caso non avessimo avuto le palle di fuoco quindi quella va bene sabbie mobili e la seconda moneta prendiamola subito no cosa sto facendo perchè cerco il suicidio andiamo avanti e basta togliamo di mezzo questo allegramente oh mamma pensavo di essermi suicidato a morte quindi qui che cosa c'è monete tra l'altro abbiamo preso il checkpoint del primo livello e un fiore mi prude il naso ah vedi se li colpisco alla testa muoiono subito il che è bene exacten perfetto oh ottimo livello molto lineare abbiamo preso tutte e tre le molete stella senza particolari difficoltà quello è un tubo verde picco un tubo verde si è un tubo piccolino quindi avremmo avuto bisogno del mini fungo tuttavia visto che abbiamo preso tutte e tre le monete stella poco mi interessa qui più che altro facciamo oh 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 qui si cade e andiamo oltre e concludiamo credo che abbiamo concluso si stiamo quasi alla fine sta anche finendo il tempo ah vedi che carini qui ci aiutano pure ee la 4000 punti non che il punteggio sia una cosa fondamentale in questo gioco infatti non ho mai capito che senso ha questo magari è per gli americani che puntano molto sui puntano sui punti scusate il gioco di parole ok secondo livello e un uscita nascosta a quanto pare si here i go dovrei ricordarmela se non mi sto confondendo pom 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 oppla molto stile mario brothers pom pom il guscio si è andato a schiantare a qualche parte qui probabilmente la chitu ti odio a morte anche qui si ti odio ti odio tanto perché mi servivi perché mi servivi per ottenere i potenziamenti per ottenere la moneta ma ora visto che ti ho ucciso calma cosa vuoi fare con quel coso e io lo sapevo anche se forse in realtà è stato meglio così ok mi potenzio rimedio un fiore del fuoco e poi torno qui a tra poco ok ho preso un fiore del fuoco ora possiamo riprovare perché ve lo farò vedere tra pochissimo certo dovrei liberarmi di quel cavolo di fungo gigantesco perché proviamo adesso uccidendo la chitu con una palla di fuoco come su super mario world le ruberemo la nuvola e a cosa ci serve la nuvola per raggiungere dei punti altrimenti inaccessibili e raggiungere anche la moneta stella non ricordo esattamente dove si trova ma a un certo punto vedremo una colonna di monete che va verso l'alto e quello sarà il punto giusto spero solo di non cadere di sotto eccoci tanto è la chitu respawna quindi basterà avere un po' di pazienza eccola a posto su dove sta la moneta eccola qua ok passata questa dovrebbero essere abbastanza facili da trovare le altre riscendiamo perché vorrei evitare che la nuvola sparisca ecco proprio mentre sto sopra un buco e qui ce ne sta subito un'altra ma qui posso entrare? no ok ok seconda e qui non si entra altra la chitu ma io sono uscito mi sembra che non c'erano altre cose da trovare quindi proseguiamo checkpoint altro fiore e qui cosa c'era? maledizione mi ha spezzato il ritmo prima di distruggere questi blocchi oh oh no ecco fatto no non mi interessa anzi aspetta si vieni qui che qui sopra ho visto delle monete ah sicuramente anche quel tubo ci permetteva di raggiungerla ma vediamo un po' ehi a posto anche così va bene qui dovrebbe esserci l'ultima moneta tutta a posto anche qui e abbiamo finito anche questo livello possiamo tranquillamente arrivare fino alla fine mi chiedo se qui posso fare no vabbè non mi interessa l'importante è che l'abbiamo fatto pam 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 bravo Mario qui non c'erano altri passaggi vero? no sblocchiamo solo la casa di Todd perché oltretutto oltre a sbloccare il passaggio è anche una scusa per salvare esattamente per salvare il gioco per il momento la casa di Todd lasciamola lì e proseguiamo qui c'è c'è una doppia strada e allora andiamo entriamo in questo tubo vediamo cosa ci aspetta oh me lo ricordo questo livello era labirintico ok speriamo di riuscire a trovare tutte e tre le monete altrimenti lo farò in un secondo momento qui dobbiamo andare di qua e troviamo subito la prima moneta il che è buono ma che belli quei tombini queste qui sono piattaforme che si apriranno al nostro passaggio un altro fiore pipishtrello prima di andare qui sotto mi sembra ecco che dobbiamo andare anche qua oplà 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 calma aspetta c'era altro qui? no solo due monete copiamolo da sopra in caso fossero tante monete esatto comunque siamo a 36 vite che è più che bene allora ah io pensavo che questa fosse oltretutto una strada secondaria invece è proprio l'unico modo per andare avanti mi sembra ci ho piantati a parte che qui c'è un'altra moneta perfetto e se vado sopra che succede? nulla probabilmente mi sono oh oh solo ho semplificato la vita manca una sola moneta siamo circa ok a metà livello qui sopra non c'era altro e allora scendiamo ah eh eh dicevo mi sembrava una zona un po' troppo vasta ora andiamo di qua lì c'è oh ok 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 sì questa parte me la ricordo non c'erano blocchi nascosti no noi schiacciando questo tasto faremo salire l'acqua e potremo salire qui sopra tuttavia c'è ecco qui un doppio tasto questo tasto comparirà solo se lo raggiungeremo mentre è ancora attivo il precedente altrimenti non comparirà non vi fate ingannare da quelle monete perché sono una perdita di tempo e qui troveremo l'uscita secondaria vediamo se riesco no vabbè non fa niente comunque era la seconda uscita a proposito una cosa che ho dimenticato se noi riusciremo a toccare la bandiera mentre il tempo limite il tempo massimo si trova con le due cifre uguali otterremo la musichetta del primo super mario bros poi ve la faccio vedere ah ecco tanto questo livello lo devo ripetere per sbloccare l'uscita originale quindi me lo rifaccio e noi ci vediamo direttamente alla fine ok eccoci qui stavolta anziché prendere l'interruttore proseguiremo anzi no comunque il primo interruttore dobbiamo prenderlo a prescindere anche perché ci manca la terza moneta però dovevo sbloccare il secondo la seconda uscita stavolta andremo qui oppla nuota mario oh mamma piantona ah non vedi le monete grande dove devo andare? qui sotto o sopra? vabbè visto che è una zona chiusa fiore buono e quindi risaliamo ora attenzione che qui da qualche parte c'è la terza moneta vorrei evitare di concludere il livello senza averla presa da che parte? oh qui si cade allora aspetta fatemi riprovare un secondo eccola ok possiamo andare verso la fine a me sono concesso che ricordo come si arriva alla fine qui cosa si prende? niente dove si va qui? tutti i blocchi altro fiore che non ci faccio nulla va bene proseguiamo allora ciao pianta oh ok qui c'è un giochino da fare allora noi attiviamo questo ci lasciamo cadere e prima che finisca il tempo passiamo qua ok siamo arrivati e qui c'è anche un trampolino chissà se forse lasciandolo qui sopra riesco a darmi abbastanza slush aha e ho capito ma come la prendo la rincorsa da no invece ce l'abbiamo fatta buono pardon io ho dimenticato di fare il giochino con il tempo vabbè non fa nulla ma quanto stiamo? è lungo questo mondo c'è anche da fare questo a quanto stiamo? beh ancora c'è un po' di tempo oh bello un oasi nel deserto bella e senza assolutamente per iiii no c'è un cosone qui è come la grande bertha di super mario 3 solo che stavolta anziché essere una specie di balena è una sorta di gigantesco anfibio spinoso super incazzoso no 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 calma buone ferme lasciami stare eh la moneta sta lì sotto aspetta c'hai fame? ecco siamo stati colpiti ma il guscio ci ha difeso ora pensiamo a stare in un punto in alto oh no no ok eh aspetta eh calma via ok qui in realtà non dovrebbero esserci monete particolarmente nascoste ma è diventato più piccolo anche lo sbaglio no mi sa che è solo un'impressione calma ecco fungo va benissimo eh prima di fare qualsiasi cosa voglio vedere che cos'è questo? oh là un altro trampolino eccolo qui no andiamocene su oh oh bello piattaforme in alto e al sicuro dubito che riesca ad arrivare fin qua ah 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 lasciami no 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 siamo morti siamo morti dunque qui c'è un'altra moneta ma stiamo alla fine del livello quindi qualcosa è andato storto temo mi sa che me ne sono dimenticata una e ora sto anche morendo ok rifacciamo da qui ok ok no era la seconda qui ci sono due uscite questa credo che sia l'uscita segreta ok abbiamo preso anche la terza involontariamente benissimo così sono finiti i mostracci acquatici ok ah ok quanti ce ne sono? solo uno due chissà se ce la faccio con un po' di rincorsa su e vai peccato non abbiamo recuperato la vita di prima ma comunque abbiamo tutte e tre le monete ora come al solito rifaccio questo livello e sblocco l'uscita normale questo ci ha portato ad un cannone ok ci vediamo tra poco ok ci siamo e questa qui è l'uscita classica parliamo addirittura sott'acqua si noi prima siamo andati qui ora saltiamo qua aspetta scrocchiamo un passaggio su questa paratrupa eh no niente niente vita anche questa volta vabbè non ci interessa abbiamo comunque tutte e tre le monete questo gameplay mi sa che verrà un pochino più lungo degli altri ma del resto mi sembra che ci sono più livelli questo qui è un passaggio che se lo prendiamo ci dovrebbe portare direttamente alla fine del mondo tuttavia io intendo fare tutti i livelli quindi proseguiamo here I go nooo qui c'è qualche blocco nascosto no però c'è un blocco P sì ah fa alzare le collinette ah bello fiore cerchiamo di non perderlo subito stavolta buono qui no qui nulla oh questa è verde eh in genere in queste serie di blocchi si nasconde una pianta no niente piano ok qui c'è una moneta e si basta fare attenzione a questa piantaccia tiè e prima moneta l'abbiamo presa togliamo di mezzo anche questa qui ce n'è tutta una fila ah vedi qui ci sarebbe servito mini mario non so però se in quel passaggio si prendeva una moneta stella in tal caso la lascerò per delle parti più avanzate oh quante monete ah un attimo qui si passa sotto piantaccia esci fuori non qui ma qui d'onde mi porti mondo cioè mondo piccolo liello sommerso con i soliti pesciolini ah tu dove vai ecco qua ma non c'era nulla non lo so boh proseguiamo ok siamo usciti da qui oh ecco nooo porca miseria non posso più scendere non c'è problema torno indietro lo rifaccio a tra poco bene rieccoci qui stavolta non colpiamo il tasto e prendiamo la seconda moneta adesso si bene bene allora avanti questo aveva le ali goomba con le ali altro fiore cosa succede se colpisco ah ok ok si alzano le collinette come al solito non capisco se è un bene o se è un male ok hammer brother salve ed ecco la terza moneta grande non è stato difficile a parte quella al centro che poi in realtà non era nulla di impossibile ok direi che ci siamo ah porca miseria fantastico il tempo era a 133 secondi le unità e le decine erano uguali 3 3 e quindi ci ha dato l'effetto sonoro del primo super mario bros ok oh è comparsa una casa di tod aggiuntiva bene ragazzuoli siamo alla torre alla prima torre di questo mondo quindi entriamo c'è anche un bonus 40 vite sapete che vi dico vabbè si prendiamocelo dai rischiamo facciamo estrema attenzione e teniamo soprattutto gli occhi aperti per le tre monete monete stella hop hop sentite io il fiore ah beh tanto il discorso è sempre lo stesso io ormai sono abituato con super mario world vediamo un po' ma che spettacolo questa non me la ricordavo possiamo arrampicare sulle corde tocca solo vedere se questo era una zona in più non so se stiamo andando avanti o se stiamo in una zona segreta ma temo che stiamo andando avanti calma qui c'è una porta nascosta in teoria ci dovrebbe portare ad una moneta e questo che? oh mamma mia calma non ci facciamo prendere dal panico ho visto una moneta forse la possiamo prendere da qui e si che la possiamo prendere da qui ma non in questo modo ok devo servirmi ancora di questa piatta porca miseria aspettiamo che torna saltiamole sopra e andiamo questa ci porta all'uscita bene e ora? abbiamo preso oltretutto la moneta la moneta centrale non la prima quindi in un secondo momento dovremmo aspetta 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 e quella? sta anche finendo il tempo non ho la benché minima ok l'abbiamo presa ci manca solo la prima quindi aaah sto sbagliando tantissimo non so da che parte devo andare ragazzuoli questo era il checkpoint temo che non faremo in tempo a meno che non riesca ad arrivare ecco e a battere il boss a tempo di record la vedo grigia oh aspetta ci siamo? abbiamo 45 secondi si dovrebbe essere tranquilla ci manca solo la prima moneta ma non è un problema salve.. oh arena ristretta dai che abbiamo le palle di fuoco tutto a posto ok lui ovviamente scappa immagino eheheh come cavolo? forse passando qui sopra vediamo un po' se ce lo permette e no sta all'estrema destra di questa sezione quindi quindi eccola ok ragazzi perfetto ok qui ci sarebbe un passaggio segreto da aprire tuttavia abbiamo bisogno del mini fungo quindi ci tornerò quando ne troverò uno per il momento andiamo avanti non ho sbloccato alcuni percorsi tuttavia pian piano li sbloccherò anche quelli che sono rimasti indietro salviamo e avanti prendiamo un po' di vite spero ci provo qui c'è sempre Mastro Toad che ci fa fare il solido giochino vediamo se siamo fortunati come l'altra volta grande beh beh non è andata malaccio e siamo a 48 vite ho 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 quindi proseguiamo quinto livello del secondo mondo salve fiore prima o poi devo decidermi a buttare via col fungo oh porca miseria ma cosa sei? posso ucciderti? e si che posso e mi da anche un fiore buenos mi sembra che era eccola lì la moneta viene qui cammina davelo un pelo salta potevi avvisarmi voilà presa tutututututum li ho fatti fuori tutti insieme ottimo bene e avanti abbiamo preso la prima moneta oh mamma e queste mi sa che si ok ci arrivo un po' di rincorsa ma da bene anche così non vorrei perdere il fiore quindi stiamo maledizione stiamo attenti sono fantastici questi blocchi eh blocchi finti altro fiore ma lì sotto no lì sotto probabilmente muoio checkpoint oh le fiammette oh calma facciamo attenzione che sono molto pericolose oh aspetta ho visto qualcosa qui no maledizione eccolo quello stavo cercando no torna qui porca venite qui devo prendere no non tu non volevo te volevo quegli altri blocchi bravissimo oh e con questi oh prenderemo la seconda moneta ora scivoliamo via vorrei evitare di andare a dare un bacino a quel coso di fiamme oh ci passo ora attenzione boomerang brother ok attenzione e qui c'è una cosa da fare noi qui anziché entrare nel tubo passiamo sotto là e troveremo e troveremo un'uscita nascosta no aspetta scendiamo questo eccolo qui ci aiuta a prendere la terza moneta fatto questo ce ne possiamo andare cerchiamo di non morire possibilmente ma io qui posso andare sia di qua che di là forse erano uscita sì erano uscita ok se avessimo preso la strada convenzionale sicuramente saremmo usciti da lì salta aspetta e oh e prendiamo anche una vita buenos vediamo un po' se in questa casa di tod no scusa hai visto mai ci desse un minifungo proviamoci tanto le monete sono qui per essere spese vediamo vediamo sì mamma mia sì sì ok andiamo o meglio proviamo a sbloccare quell'altra uscita dunque il livello era quello prima della torre aspetta perché ci permetteva di andare lì quindi in teoria sì ok proviamo e invece no porca miseria perché ho dimenticato che ho quel fungo gigante che mi tiene impegnato l'inventario va bene allora nulla andiamo avanti ne troveremo qualcun altro andiamo avanti usiamo questo maledetto fungo verso la fine perché prima devo trovare le altre cose però ricordiamoci maledizione l'avevo trovato e anche al primo colpo odio questa cosa oh un livello scorrimento automatico bene niente non sono neanche riuscito a prendere un fungo e ora sarà un problema perché qui mi avrebbe fatto veramente comodo un fiore di fuoco bene si è anche appoggiata sulla nostra piattaforma niente eh come complicarsi la vita beh se non altro nooo porca miseria eh vabbè mmm ok riproviamo ok stavolta se non altro un fungo l'abbiamo preso neanche un fiore e siamo di nuovo circondati ma almeno stavolta siamo un po' più grandi ecco brava vattene via ecco qua fiore pussa via mi domando cosa ci fosse lì via ok con le palle di fuoco non ho più paura di nulla ecco ricordiamoci di buttare quel maledetto fungo gigante prima di finire il livello abbiamo preso una moneta via nooo lo sapevo ecco proprio nel posto sbagliato ok seconda moneta presa quanto è grossa quella pianta ho come la netta sensazione di dover andare più in basso non vorrei che mi fregassero così cosa sto facendo no forse era la cosa sì sicuramente era la cosa giusta da fare ecco la terza moneta grande occhio a questa palla di fuoco ok ok anche qui abbiamo preso le tre monete guardate 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 porca miseria quindi ma mi chiedo se lì sopra no ok non c'era nulla dunque usiamo questo maledetto fungo così ce lo togliamo dalle scatole una volta per tutte non è proprio un po' qualcosa qui no oh 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 ok facciamolo finire così finalmente saremo liberi oh e questa non lo sapevo che se davano tante schiacciate saltava fuori quella roba fantastico dai che sta finendo anche il tempo e buono pam 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 avanti così castello ma ho già fatto ah probabilmente erano meno livelli in realtà e va bene allora andiamo castello dal livello rosso quindi anche qui c'è una biforcazione e ricordo anche quale questo non me lo ricordavo ma che effetti scemi facciamo attenzione a tutte queste palle appuntite oh 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 queste rotolano ma le posso? no ok pensavo di poterle distruggere arzan dove mi mandi? oh porca miseria che modo stupido allora diamoci un po' di slancio perché qui sopra ho visto che ci sono delle piattaforme e porca miseria ok ci sono riuscito oltretutto mi sono fatto anche colpire un'altra volta tuttavia la vita la prendiamo risaliamo e un'altra vita l'abbiamo presa bene completamente inutile in pratica come sprecare tempo e come morire in modo stupido in modo cretino ma porca vacca avanti ci rivediamo là ok stavolta andiamo oltre prendiamo anche un fiore grande ok calma abbassiamoci e ci passerà sopra idem bene per un attimo temuto di restare incastrato ok mamma mia prima moneta yes ah no qui è chiuso allora no pensavo di poterci stare sotto vabbè non importa oh siamo all'aperto i proiettiloni bullet bill bullet bill facciamo attenzione se ci stiamo accanto non sparano ecco un'altra moneta ok facile non aspettiamo che gli spara 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 grazie ecco la seconda ok in qui qui cosa succede ok ok qui facciamo oh porco boia calma non c'è problema ok fiore brutta palla adesso era qui era qui era qui che prendevamo eccolo finalmente maledizione ricordiamoci che qui troviamo un mini fungo perché ci farà comodo per tornare a sbloccare quel passaggio quello nella parte iniziale del mondo tuttavia ora noi andiamo qui in primis perché prendiamo questo ora noi potremo decidere se continuare così o no c'è un motivo preciso stavolta continuiamo così perché se saremo mini potremo sbloccare una biforcazione di un mondo io stavo per fare un errore madornalissimo via ok boss allora questo qui è uno di quei bruchi del deserto in chiave mummificata facciamo attenzione perché ci sparerà addosso queste pietre queste pietre penso che siano e per colpirlo dovremmo aspettare ecco che appaia e quando siamo mini schiacciare sopra di loro cioè sopra di lui così altrimenti quando siamo normali basta fare un semplice salto un semplice salto ok ops ho sbagliato mamma mia oh mamma oh mamma preso ce l'abbiamo fatta e ci darà la chiave prendiamola ed ora che siamo mini passeremo di sotto e anziché al terzo mondo andremo al quarto è un modo per sbloccare è un percorso un percorso alternativo andiamo al secondo mondo e riaffrontiamo togliamo il puntatore e riaffrontiamo il castello naturalmente taglierò fino alla parte finale eccoci qui a tra poco e rai go ok sconfitto il boss stavolta come Mario normale prendiamo la chiave e passiamo dall'uscita principale e ce ne andiamo al mondo 3 oh mondo a tema marittimo giustamente terzo mondo vuoi salvare certo che si si qui già possiamo pagare cinque monete per prendere una strada alternativa tuttavia lo facciamo dopo andiamo a vedere il primo livello 50 vite non male oh che bello non c'è altro e allora entriamo oh mondo acquatico pescioloni un fiore? no dunque ragazzuolo io in questi giorni ho fatto un mega formatone al mio pc perché ogni tanto una pulitina tocca darla oh e ho resettato di nuovo chiaramente microfono programmi per registrare quindi se sentite oh fiore vieni calma quindi se sentite la mia voce un po' diversa dal normale perché evidentemente non ho fatto proprio lo stesso identico settaggio io spero di essere riuscito oh stella spero di essere riuscito a settarlo comunque bene tuttavia ciao oh mamma mia questo sarebbe stato molto pericoloso entriamo qui che era l'unico tubo senza il getto d'aria quante monete e quanti pesciolini pecca oh ok primo monetone buono no no mamma mamma andiamocene di qui che è una zona abbastanza pericolosa ed eccoci seconda moneta questo se ci mangia è morte istantanea quindi evitiamo di trasformarci in cibo per pesci ottimo terza moneta ed ecco il pesciaccio porca 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 dì e non ci provare mai più vieni visto che comunque abbiamo abbondanza di vite ok proviamoci lo stesso eh non ci siamo riusciti ah per un millesimo va bene tu vuoi là primo livello credo sì primo livello terminato no mannaggia mmm ecco così si fa perfetto e si prosegue tuttavia andiamo a vedere qui cosa ci aspetta paghiamo il dazio di 5 monete stella e accediamo a un livello tra virgolette se vogliamo dire nascosto anche se era lì in bella vista ok ok quindi qui ci sono due uscite una ci manderà avanti e una ci porterà alla casa di Todd vediamo cosa ci aspetta che fanno questi cosi questi li ho visti su mario 64 e anche su mario sunshine solo che qui lasciano delle bombe oh aspetta un po' non credo ci sia nulla di interessante a parte questo ok proviamoci quindi io naturalmente parto dal punto sbagliato fico vita per noi ai hm hm oh ho preso un colpo tiè questi semplicemente si limitano a espellere delle bombe per non dire per non usare un altro termine tuttavia io ancora non ho visto delle monete stella quindi teniamo gli occhi aperti perchè non vorrei che magari per cincischiare me la perdo non cincischi vado avanti sì magari sta qui sopra no mi sa che me la sono persa perchè sto quasi a metà livello qui tuttavia c'è un interruttore oh 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 ok amo queste cose si ma di delle monete stella neanche l'ombra quindi oh ecco ne un ok ci ha aperto il passaggio meno male che non l'ho ucciso altrimenti altrimenti non credo che avremmo potuto raggiungere questa moneta stella ok buon per noi tuttavia ne abbiamo presa una probabilmente l'altra me la sono dimenticata da qualche non è vero abbiamo preso la prima quindi non abbiamo dimenticato nulla il mini fungo porca miseria vabbè l'importante è che l'abbiamo presa speriamo che non serviva per aprirci qualche passaggio segreto mmm e invece mi sa tanto di sì probabilmente quel mini fungo ci avrebbe portato alla moneta stella peccato oh pesci mmm ecco a che serviva il mini fungo ragazzi potevamo correre sull'acqua ok non c'è problema finisco il livello rifaccio questo pezzo senza tante complicazioni ora che so come si fa intanto arriviamo fino alla fine senza farci uccidere a morte possibilmente ok dai che siamo arrivati ok no problem che bello ok rifaccio questo livello e prendo quella quella monetaccia beh però intanto un'uscita l'abbiamo sbloccata quindi lo avremmo dovuto rifare comunque dai non è così male un fungo vita buenos questo lo lasciamo e rientriamo a tra poco ecco il tubo incriminato quindi adesso in teoria perfetto ok ci vediamo alla fine vediamo adesso che ci aspetta ma il passaggio era già aperto ma il passaggio era già aperto ok non ci importa altro livello siamo ancora mini mario ok si fungo grazie via ossa no aspetta un po' vabbè pazienza per fortuna ne abbiamo a quantità industriali aspetta non lo sapevo io che andavo a finire così vabbè no problem zoma facciamo alzare queste bilance e con un elegante balzo atterriamo entriamo in questo tubo vediamo cosa ci aspetta oh mamma mamma vai prima moneta ce la faccio con calma proprio aspettiamo che questo fungo ubriaco ci porti su e là ora cerchiamo di non morire più che altro un fungo grazie gentilissimo nooo da che cacchio ok rifacciamo a momenti non c'era neanche bisogno di tagliare sono apparso proprio nel punto in cui sono morto ok avanti adesso e stavolta senza fare cacchiate buono seconda moneta presa mamma mia grande io in pratica ho rischiato la vita per per niente mi sono quasi ammazzato per delle semplici e comune monete e comuni monete vabbè non ci interessa avanti spirito sportivo tuttavia oh mamma questi funghi ehm sì qua bisogna prendere bene le misure ma che siete scemi nooo si stanno incrociando gli occhi e tuttavia abbiamo trovato l'uscita segreta ma non abbiamo preso la terza stella perché ah perché abbiamo preso sì un'uscita secondaria evidentemente quel tubo ci ha portato proprio ad una diramazione e infatti sì vedi va bene rifacciamo il livello e prendiamo la terza moneta ok stavolta non entriamo dentro i tubi e andiamo avanti così normalmente oh mamma cerchio prendiamo le monete rosse se ci riusciamo buono abbiamo recuperato la vita persa ignobilmente poco fa guarda oh mamma oh ok ecco la moneta vai presa grande ora cerchiamo di non sto cercando la morte sto cercando la morte ce l'abbiamo fatta non mi importa nulla ce l'abbiamo fatta oh stavo a 300 secondi perché non mi ha fatto sentire la musichetta di super mario bros e forse gli zeri non contano ok ok ci facciamo il castello via 60 vite 60 vite oh grazie bonus dammi un qualcosa di utile un fiore ho visto delle reti sì aspetta esploriamo questo qui altro omaggio alle precedenti serie di mario questo è ispiratissimo a super mario world ed ecco la prima moneta anche su super mario world c'erano queste reti mi sa che mi devo far sparare di nuovo eh sì avanti allora al volo e saliamo oh amperini qui ci siamo stati questa col pendolo dovrebbe ruotare sì e passiamo dall'altra parte ah e rimaniamo dall'altra parte oltretutto non era come su quelli vecchi qui ci sono due blocchi sì però qui si sale aspetta vediamo se possiamo trovare qualcosa di interessante ok un blocco da distruggere noi gli lanciamo un guscio oh monete vai cioè in realtà ormai ormai sono facoltative però qui si sale ok no era penso semplicemente una scorciatoia e no cioè sì in teoria pazzarola e dobbiamo trovare un punto per per passare dall'altra dall'altro lato della rete qui intanto siamo arrivati ad una porta andiamo un po' oh perfetto ok possiamo farlo tranquillamente da qui oppla oh no fermi torniamo indietro prendiamo quella moneta e poi proseguiamo con calma guarda con che nonchalance Mario passa da una parte all'altra pinone ma se adesso io invece volessi passare da quest'altra parte no? in teoria dovrebbe bastare fare nooo vabbè non il... se ce la facciamo vediamo se riusciamo a fare una mezza mandra no muore definitivamente ok a questo punto andiamo di qua e vediamo se siamo fortunati entrando qui tuttavia siamo ancora a metà del livello quindi la terza moneta è infatti la terza moneta dovrebbe essere ancora lontana e sci ma qui comunque andiamo indietro ah no si sale avanti allora mappa quante ma che è ah si ovviamente possiamo anche colpire le tartarughe che stanno dall'altra parte della rete piore eh vabbè dai che ci importa popola a quanto stiamo? ma stiamo alla fine dov'è la moneta? temo di essermela persa poi a momenti perdevo anche il power up eh vabbè in caso torno a prenderla per il momento siamo arrivati proseguiamo queste sono scatole non so cosa sono delle porte chiuse oh mamma un altro fiore eh grazie ma e niente ok tornerò a recuperarla per il momento finiamo il livello Bowser Junior lo bombardiamo di palli di fuoco tanto lui è piccolino grande ovviamente scappa e abbiamo finito la prima sezione del terzo mondo qui lì c'è anche una casa stregata se l'avete vista ora io faccio una rapida capatina nel castello recupero il terzo monetone e poi ci salutiamo vai ok questa volta anziché andare lì a sinistra saliamo di qua e qui avevamo rotto i blocchi ma non eravamo saliti da questa parte infatti qui ci sono altri due amperini e qui c'è l'altra porta che avevamo visto prima e infatti si accede ad un'altra sezione qui tocca andare in fretta probabilmente ed eccola qui ed ora possiamo proseguire tuttavia prima di fare questa parte io voglio andare a vedere quel livello che abbiamo lasciato in sospeso lo scorso gameplay quindi cominciamo mondo 3b oh tubi e piante tanti tubi mi ricorda il settimo mondo di super mario bros 3b si io però devo abbassare un'antichietta che qui mi sto sfondando ok i timpani si può entrare a quanto pare no maledette piante ecco ma questo è un livello o è un vivaio io le ammazzo tutte così almeno poi posso provare ad entrare no calma piore e la niente e allora avanti ecco la prima moneta tuttavia è raggiungibile però lì sotto c'è un tubo rosso quindi appena vediamo un tubo rosso se ho fatto il ragionamento giusto ci precipitiamo dentro magari prima facciamo un secondo piazza pulita ecco il tubo rosso vediamo se è quello che ci porta basta che non è quello sopra no siamo entrati ok ci fa tornare indietro quindi dovrebbe essere cosa buona e giusta bene una stella ma che ci faccio qui completamente sprecata però tuttavia abbiamo preso la prima moneta grande quanto mi piaceva questa musica tutta melodica morirò lì c'è un'altra moneta e oh posso rimbalzare però aspetta qui si vede il limite del tubo forse e non mi rompe le scatole devo riflettere forse rimbalzando così cosa grande si entra e neanche qui siamo a due monete stella mamma mia quante non mi toccare ed ecco la terza moneta nooo mi sono fatto beccare come un pollo vabbè comunque abbiamo preso ah ok si la terza moneta ma vedi intelligente ah queste sono le soddisfazioni faremo un salto per prendere il punteggio minimo comunque tre monete prese è questo che ci interessa quindi si apre proprio una strada parallela qui va bene va bene allora usciamo entriamo ok altro livello col iiii no 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 c'è il pesciaccio anfibio iperatomico ecco fatto quando si hanno le palle di fuego si risolve con un attimo anche se tanto comunque questo torna oh oh calma via non dovrebbe riuscire a prendermi da qui no non ci riesce e là bene attenzione che ci sono queste piattaforme cedevoli oh via via alla larga no mmm no pesce smac non mi togliere le palle di fuoco che qui porca mmm mannaggia ah comunque stiamo andando avanti siamo a metà livello e ancora non vedo la moneta di centro non vorrei dover nuotare sotto ah ok ecco com'era? non vorrei dover nuotare sotto facciamo una bella cosa spianiamoci la strada ecco fatto ora prima che torna brighiamoci via benone comunque nonostante la presenza di quel brutto coso che sta cercando di fare colazione con me medesimo devo dire che ha un livello molto non lo sapevo com'era? devo dire che ha un livello molto rilassante stella vieni mangiami mangiami che sono piccante probabilmente questa stella serviva a qualcosa sii mi sa che in qualche modo si doveva entrare lì dentro come faccio ad entrare lì dentro? ragazzi sicuramente qui c'è il monetone ma oh ma ce la facciamo grande io l'ho fatto proprio per scrupolo l'ho fatto ok però lì c'era un tubo che ci faceva passare da quella parte lì ok a posto mi sono fatto tanti problemi per nulla tre monete stella grande così continuiamo a seguire la strada parallela e da qui arriviamo già al castello potremmo finire subito questo mondo in un mondo ideale tuttavia questo non è il mondo ideale quindi noi torniamo indietro e andiamo a fare questo livello qui avanti tre tre e abbiamo anche questo bonus che ci viene in soccorso buono fiore del fuoco anche perché ho una netta sensazione visti questi tubi che sarà un livello acquatico chissà se si poteva entrare anche in quell'altro tubo toccherebbe provarci oh blooper ma era un po' che non ci si vedeva non abbastanza comunque abbiamo ecco le palle di fuoco usiamole per difenderci purtroppo i blooper sono ma guardate mi sono salvato dal blooper chiamiamo cioè usiamo quest'altro fiore stiamo tranquilli cerchiamo di farci piazza pulita e poi se mi dovessero ricolpire pazienza teniamo gli occhi aperti quel suono non mi piace per niente posso entrare qui? no va bene neanche qui però qui si scende oh blooper ho visto la moneta stella ma c'è anche un blooper comunque no problem prima moneta raccolta e qui c'è anche un interruttore P che cosa ha fatto? ha disattivato i tubi ad aria i tubi ad aria tico due tre quattro vai vita vacca no aspetta no non mi toccare grande ok siamo riusciti a passare qui sotto e e ora in quale tubo entro? in questo stanza nooo porca miseria tante monete tante monete blocco dammi un fiore no altro blocco questo ha anche i bluberini nooo muoio 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 oh terza moneta ok ehm si cerchiamo un modo per andare nooo porca miseria va bene rifacciamo da qui ci riprova senza riuscirci mi ha succhiato il cervello ok passiamo da qui e andiamo a prenderci un bonus almeno stiamo un pochino più tranquilli salviamo anche il gioco dammi qualcosa di potente gentilmente e fu così che ho preso un minifungo ho capito troppo potente io me ne vado senza neanche salutarti sei inutile Mastro Todd che ci faccio con un maxifungo qui? va bene vediamo se riesco a recuperare anche una delle vite perse ok fiore del fuoco chi te ci ha mandato? grande ok qui ce ne sono altri due eh si però mi sto facendo circondare eh calma no maledizione calma niente panico non mi importa nulla andiamocene via 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 il tubo mamma mia che parto abbiamo preso a Tozzi e Bocconi la seconda moneta proseguiamo il tubo il tubo aspetta il tubo dice di entrare e noi che cosa facciamo? disobbediamo siiii ecco la terza voi siete matti comunque ce l'abbiamo fatta tutte e tre le monete ed anche una tutte e tre le monete ed anche una vita siamo di nuovo a 63 grande così ci aspetta la casa dei fantasmi credo sì bene dio ce la mandi buona quando giocavo a Super Mario World le odiavo queste case mi ci perdevo un fiore eh sul secondo schermo ci sono due fantasmi va bene qui immagino che non si possa salire no però lì c'è un blocco P blocco P ok ha creato le scale e allora noi le usiamo per salire fantasmino aspetta un secondo vorrei vedere ho rischiato tantissimo pensavo ci fosse una sorta di scala nascosta ma se invece me ne andavo di sotto va bene comunque ci siamo tolti la curiosità proseguiamo ma qui si muore? sì probabilmente sì qui? che c'è? mmm così facile? porca miseria dovevo usare oh fantasmino niente ciao ricordiamoci che dobbiamo buttare questo fungo gigantesco eh altrimenti non ci fa prendere dei bonus riserva meno male che non sono andato a vedere lì sotto altrimenti sarei caduto no stai fermo lì tu aspetta no ci ho ripensato vieni qui ma quanto sei carino ok ha attivato delle scale lì sopra prima moneta perfetto ma guardate che non ci dice ah sì sì ok ok peccato che sono stato colpito per guardare lo schermo ahi va bene una moneta l'abbiamo trovata fantasmino no ah ok devo usare questa in modo da avere un po' di secondi in più quindi io vado non so cos'è successo ok qui c'è qualcosa ecco che cos'è ok 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 la porta appare ok era un trucchetto cioè un trucchetto era l'enigma della zona ora cerchiamo di capirci qualcosa in più intanto abbiamo preso un fiore lì si sale tuttavia se qui si fa bene noi andiamo andiamocene di qua non era proprio quello che volevo fare ma ok va bene volevo usarlo per eliminare questi fantasmini ma uh no invece ho fatto bene mi sono semplificato di tantissimo la vita fermi tutti buoni ma meno male che ho preso il guscio andiamo un po' sì la forza è potente in me me lo sentivo che c'era no non me lo sentivo è stato un colpo di fortuna ok però abbiamo perso la moneta centrale ragazzi tocca che rientro la cerco va bene facciamolo intanto lo abbiamo finito ok torniamo dentro e taglio fino al punto in cui la trovo intanto abbiamo preso ottenuto l'accesso per il castello di finale di questo mondo ok entriamo io vado su ah eccola dov'è vigliacca ok fantasmino vieni qui toglieti dalle scatole tanto che aspettiamo prendiamo alcun fungo non è venuto lo prendiamo quindi fantasma attiriamo il fantasma qui in modo che non possa romperci le scatole ora dobbiamo andare a sinistra oh perfetto ecco come si faceva va bene ragazzi allora qui esco no non posso uscire finisco la casa e ci vediamo all'uscita eh però non abbiamo sbloccato l'uscita secondaria maledizione voi non avete idea di quanto tempo sono stato qui dentro adesso mi faccio vedere finalmente l'ho trovata e la sto rifacendo per farvi vedere anche se non è semplicissima allora dobbiamo andare qui sotto e attivare questo switch per far apparire una porta ma non quella lì sopra che abbiamo visto prima ne appare un'altra e dobbiamo anche sbrigarci questa questa appare e ci porta all'altra uscita porca miseria stavo per lasciar perdere ecco uscita secondaria maledizione bravo Mario grazie bello abbiamo trovato anche questa mi è costato un bel po' voi naturalmente non vedrete tutti i tentativi andati a vuoto ma sappiate che ci ho messo un bel po' va bene castello finale del terzo mondo mmm 65 vite oh porca caccia miseria signor Bowser vorremmo venderle questi pali puntuti l'ideale per generare un'enorme quantità di dolore fisico ai suoi avversari grande li prendo anzi ne prendo 20 ma porca questi li abbiamo visti per la prima volta su Super Mario World mamma mia oh ah ok calma prendiamo la prima moneta aspettiamo mamma mia e andiamo oh porca occhio che ci sono ecco questa è una piattaforma fatta di ciambelle che dopo un po' cadono ma non ci facciamo spaventare i tuom ah no questi non sono i tuompo questi si chiamano in un altro modo da Mario 64 attenzione perché cercheranno di schiacciarci ehm come la prendo quella però sopra è aperto sopra è aperto forse possiamo ok si saliamo da lì sopra penso spero mi auguro oh grande aspetta però ecco meno male che non ho aspettato altrimenti quello se si alzava probabilmente ci faceva finire sulle punte ok ora tu pietroso amico mio ehm via fermo la buono comunque tutto sommato dai non è per il momento non è così difficile ci manca ancora una moneta stella e qui probabilmente dobbiamo fare lo scatto suino mamma mia noo pe ma sono passato sotto che spettacolo si poteva passare ma meno male che ci sono finito per caso altrimenti qui avrei dovuto essere mini Mario oppure con il guscio oppure scivolando di corsa vabbè non ci interessa l'importante è che abbiamo preso tutte e tre le monete stella ed ora boss chi ci tocca qui vedo dell'acqua oh nooo allora come lo combatto questo se ne anda che faccio mi servivano le palle di fuoco qui oh ah ok a posto ok dai non è difficilissimo faresti un altro salto gentilmente grazie nooo e vai ahahah grande chiave per noi e anche il terzo mondo lo abbiamo completato mi ha preso a parolacce in pratica quindi adesso in teoria dovremmo andare cioè loro dovrebbero andare dritto al quinto mondo mondo dei ghiacci tuttavia puoi salvare si tuttavia a noi rimane il quarto mondo da fare e noi torniamo indietro perché abbiamo lasciato il quarto mondo partiamo vediamo già che c'è un episodio un livello con un'uscita secondaria era un livello rosso bene e ci troviamo dinnanzi una sorta di lago avvelenato penso che sia un lago avvelenato in genere il viola non è mai un colore rassicurante in questi giochi quindi per sicurezza evitiamo di andare a farci una nuotatina qui dentro almeno finché non sarà strettamente necessario nel frattempo qui vediamo che ci sono dei simpatici ragioni con le zampette a ventosa che noi grazie al supporto delle palle di fuoco eliminiamo facilmente e ora abbiamo anche un fiore nella riserva quindi siamo tranquilli andiamo con cautela e non dovrebbero esserci problemi ecco intanto lì la prima moneta dovrei poter rimbalzare ma porca su questi benissimo abbiamo scoperto che quel liquame viola è male riprendiamo da dove siamo morti via rieccoci qui sono morto non una non due ma la bellezza di tre volte nel tentativo di prendere questa moneta ora ecco finalmente ce l'abbiamo fatta possiamo proseguire tuttavia questi ragni non sempre credo che convenga accopparli perché spesso e volentieri potrebbero farci da piattaforma di salvezza questo era il mostro che trovavamo in super mario 64 nella caverna sotterranea ci accompagnerà lui ecco la seconda moneta e per poco non ci giochiamo un'altra vita per prenderla ok nulla andiamo avanti con cautela non abbassare la testa ecco da qualche parte qui ricordo che c'erano dei blocchi eccolo qui il blocco con la pianta che ci porta in alto qui se non ricordo male dovrebbe esserci non la terza moneta ma la morte ma l'uscita secondaria ok e questa intanto l'abbiamo trovata e senza farlo apposta abbiamo anche riascoltato la musichetta di super mario bros la fanfara di super mario bros quindi sblocchiamo il percorso alternativo tuttavia come al solito rifaccio questo livello ah è comparsa anche una casa di Todd rifaccio questo livello e ci rivediamo al bivio dove ho cambiato strada e questa qui è la piattaforma dove prima ci siamo arrampicati ora proseguiamo così blocchiamo l'uscita principale anche perchè manca ancora la terza moneta la terza moneta stella all'appello quindi mamma mia rischio grande rischio forte ok ecco la terza moneta tuttavia potrebbe essere un problema ma posso usare il fiore a questo punto proviamo così intanto ci togliamo dalle scatole questi ragni e qui potrei fare un agile valso sì apposta abbiamo preso la terza moneta e abbiamo anche recuperato una delle quarantordici vite perse in questo livello bene così strada principale sbloccata per adesso proseguiamo da questa parte quarto mondo secondo livello abbiamo 64 vite ok livello tra i funghi elevati altro fiore aggiungiamo la nostra scorta questi che sono funghi venenosi quindi e evviva dei funghi flessibili aspe calma buoni manteniamo la calma se saltelliamo non si flettono più di tanto ok non dovrebbe essere un grosso problema anche perchè qui abbiamo le palle di fuoco ok ok ora qui aspetta un attimo no ok una vita pensavo uscisse ok non importa e qui aspetta 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 così benissimo proseguiamo ma porca ho capito aspetta e facciamo flettere il fungo mmm oh mamma mia preso grande proseguiamo oh eh ma prendete questa non ci arrivo come no vita dai dai che non sta andando male attenzione era qui che c'era la pianta mi sembra non bisogna colpire questo blocco dall'alto ma dal basso quindi questo è flessibile quindi ci flettiamo porca vacca di qua e lo colpiamo bene bene dai che qualcosina me la ricordo su non l'ho terminato ma ero arrivato mi sembra oltre la metà del gioco aspetta qui dobbiamo salire eh ti pare eccola voglio scendere terza moneta presa guardate quanto sono morbidose queste nuvole giù giù tutto a posto ok abbiamo preso tutte e tre le monete possiamo andare con semi tranquillità verso la fine del livello bello non mi importa nulla ce l'abbiamo fatta bene così apriamo questa porta no tanto non ci azzeccherò mai la prima volta ma ma si tuttavia quel bonus lo lasciamo lì dov'è ci penseremo dopo altro livello probabilmente sott'acqua 66 vite si si voluta probabilmente sott'acqua ok andiamo va bene abbiamo le palle di fuoco cerchiamo di non farli di non perderle subito ma porca di quella miseria io parlo al muro vai ce n'è un altro grande peccato che si possono la 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 murena l'iguana come cavolo si chiama quella di super mario 64 no no iguana non mi viene il termine ho un lapsus l'anguilla ecco merca miseria mamma mia qui è più agguerrita che mai e ci sono anche i figlioletti ahhh guardate se per prendere una vita oltretutto inutile abbiamo perso di nuovo il fiore del fuoco va bene intanto la prima moneta vai altro fiore andiamocene subito in basso ok altra moneta vai benissimo siamo a metà oltre la metà del livello e abbiamo preso le prime due monete stella e qui no ok si entra in uno di questi nooo mi sembra che era lì che si entrava va bene finiamo il livello e poi ci riprovo cerchiamo di finire il livello ci manca una moneta che ricordo stava in quel tubo lì ma non c'è problema torniamo e la prendiamo in men che non si dica iiii su monetine monetelle su papà ok ce l'abbiamo fatta ah mamma mia ma pensate se ero piccolo e morivo qua veramente lanciavo il joystick ok ok e questo è fatto tuttavia siamo arrivati alla torre il livello sotto l'abbiamo fatto vero? si ok no quello è un livello di toad e niente rientro un secondo qui al volo e vado a prendere quella moneta lì a frappe ok aspettiamo ancora un po' e andiamo ora in questo modo dovremmo avere un po' più di tempo eccoci ecco qua adesso si quindi questa è la terza moneta e ah però vedete lì c'è un tubo che soffia l'acqua quindi noi ce ne andiamo rigorosamente di qua facendo attenzione a non farci prendere da questa brutta anguilla e usciamo tutto qui ragazzi abbiamo preso anche la terza moneta vado a finire il livello a dopo adesso ci aspetta la torre via 68 vite oh lava come lava ah aspetta 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 oh porca siete pazzi quindi proseguiamo ma la lava sta salendo allora di corsa di corsa di corsa non mi importa niente voglio solo le monete le monete stella cerchiamo di trovarle oh mamma mamma di qua no di là di sicuro qui dentro eccola porca quello quello maledizione oddio mio eh non so perché ma ho la sensazione di dover tornare eccola eccola la seconda la lava la lava la lava arriva vedo gli zampilli i zampilli stiamo rischiando la morte a più riprese ma per il momento sopravviviamo ho sentito un suono bruttissimo io mi sbrigo non voglio sapere niente spero solo nooo porca miseria dai riprendiamo da qui ok sono morto un po' di volte nel tentativo di di riprovare ma eccoci qua ce l'abbiamo fatta e abbiamo preso anche la terza moneta abbiamo preso la terza moneta sentite io ci provo ci provo perché qualche vita in più ecco dopo tutte quelle che ho perso ah ok mi ha dato un fungo meno male avanti possiamo siamo a metà quindi dovremmo incontrare esatto Bowser Jr. con il suo bellissimo bavaglino allora porca miseria ok attenzione che sta cambiando stile di combattimento ah ci lancia i cusci sta botta sta botta questa volta ho capito perfetto anche perché se avesse combattuto sempre allo stesso modo a un certo punto sarebbe stato quasi noioso invece noi usiamo le conchiglie bene ancora un colpo credo ah no ok quando facciamo le schiacciate facciamo più danno giusto comunque ce l'abbiamo fatta ovviamente si rialza e scappa a quanto stiamo? a 22 minuti calcolando che sono morto mille mila volte quindi in teoria il gioco dovrebbe essere un pochino più corto beh potremmo farci un altro livello ma si che ci importa andiamo a vedere cosa c'è qui sopra e c'è anche un bonus aggiuntivo quindi approfittiamo e proviamo via che cosa ci dai? ok un fungo mini non lo so oh liane e di nuovo questi liquami viola beh oddio non è male in realtà perché essendo piccoli possiamo darci anche più slancio senza esagerare dondoliamoci e vediamo dove ci porta il pato meno male che riusciamo ad aggrapparci ok questi sono i famosi carrellini che ci aiuteranno vi dirò se trovassi un potenziamento se troverò un potenziamento probabilmente lo prenderò anche se in tutta franchezza l'idea di l'idea di poter fare questi grandi salti in questa situazione non mi dispiace e calla e io lo sapevo ok rieccoci sul carrellino stavolta facciamola bene il profiffero che la stavo facendo bene tutta colpa di questa cavolo di tartaruga oh perché tu non muori se vai nei liquami mica è giusto ecco giustizia è fatta tieni fiori grande mamma mia perché faccio queste cose questa è rossa quindi fa su e giù aspetta calma che queste ci servono rimbalziamo sopra e prendiamo la monetona bene così terra ferma e anche una vita aspetta calma qui c'è una liana dove ci porta? lì sopra meno male che l'ho vista e là via ok oh bene aspetta qui possiamo fare una cosa molto bella eh non la possiamo fare più volevo fare una combo e accopparle tutte ma là non è male due monete stella puto oh no piante carnivore ci arrivo sì dovrei arrivarci benone così così controlliamo se possiamo entrare ma sembra di no ok ok nulla aspettiamo che rientrano però forse dovrei riuscire anche a scavalcarle ok adesso perfetto qui si entra? no qui si entra? no qui si entra? sì terza moneta porca miseria terza moneta ci siamo ah meno male ci hanno reso le cose un po' più semplici ok dovremmo aver completato il livello con tutte e tre le monete penso di sì questo sarà il blocco finale nessuna vita concludiamo in bellezza con la fanfara di Super Mario Bros un livello aggiuntivo rispetto alla tabella di marcia ci aspetta nel prossimo gameplay anche un'altra casa stregata mamma mia saranno bestemmie tutto ed io mi faccio prima il livello di sotto perché la casa infestata già lo so che sarà antipatico quarto mondo quarto livello 65 vite eccoci oh i wriggler o torci bruchi per noi i tagliani non ah non vedi che trasformazione doppia ok temo di non poterli uccidere vabbè pazienza non ci danno moneterana se li saltiamo sopra qui no riferimento a Super Mario RPG continuiamo oh eh vabbè ho perso beh sì pazienza tanto di vide ne abbiamo però tuttavia vieni qui vieni qui opla che mi dai vita una vita in più male non fa basta stare un po' attenti vediamo un po' se riesco a fare la mattata sì benone sì occhio però oh mamma oh mamma ok che maledette tartarughe che respawnano lì sopra no nulla oh porca miseria queste sono le ciambelle che cadono aspetta lì sopra lì sopra c'è qualcosa lì sopra c'è qualcosa ok qui c'è un bonus caso e mi dite cosa ci faccio con la stela oh una moneta come cavolo la prendo mmm e come cavolo faccio oh oh c'era un blocco nascosto aspetta calma meno male che che ho sbattuto per sbaglio lì e tanto mal che vado tornavo e continuavo a provare finché non ci riuscivo bene siamo a due monete scivoliamo no no cosa sbagliatissima a scivolare qui andiamo con calma oh porca qui probabilmente dobbiamo fare come ho fatto prima scivolare sul muro e andare oh mamma sta pure finendo il tempo proviamoci si benissimo calma oh no qui posso prendere una vita una due tre quattro cinque sei sette e vai perché c'è un altro bruco qui non lo so e non mi interessa abbiamo anche fatto finire bene la musica buono quindi abbiamo fatto questo e ci porta comunque alla casa stregata bene odio questi livelli uff andiamo andiamo no non c'era nulla bene fantasmini quanto sono carini che cosa c'è qui qui ma che modo imbecille di farsi colpire vabbè pazienza e voi ridete ridete che cavolo vi ridete vediamo che c'è qui dentro un interruttore P sì farà comparire qualche piattaforma uh aspetta era una di queste stiamo qui non so se era questa però eh sì grande che ancora ricordo qualcosa dopo mille mila anni qui qui ci porta sempre oh ma guarda che trattiene il respiro finchè non ci giriamo ah ok qui ci sarà un altro interruttore eccolo tuttavia tuttavia noi entriamo qui deve esserci un altro interruttore ah da qualche parte eccolo aspetta quello è piccolino ma si gonfia pian piano meno male pensavo che mi risucchiasse quindi noi dobbiamo qui sopra però c'è un'altra piattaforma aspetta andiamo prima qua ok abbiamo preso una moneta come c'è ah giusto si scende da qui l'interruttore ricompare quindi andiamo quindi possiamo salire qui aspetta però oh ah lì sopra c'era una c'era una piattaforma mezza traspare cioè di quelle che possiamo attraversare mmm ho la netta sensazione che dovremmo tornare ah no ok ci fa salire da sotto oh mamma quanto sei ciccione togliamoci che c'è qui moneta moneta e moneta quindi qui oh eh sì è lì dove abbiamo visto prima ragazzi come faccio a fare dei salti lunghi devo mi sa che devo essere mini mario per arrivare qui ok vediamo fin dove riusciamo ad arrivare intanto siamo arrivati all'uscita è probabile che dovrò andare a cercare un minifungo da qualche parte mi sa che devo tornare all'inizio delle mappe per trovare il minifungo o al massimo farò dei tentativi nelle varie case di Todd vedrò eh sì perché lì sotto oltretutto c'è anche un'uscita secondaria va bene vado a cercare un minifungo e ci vediamo tra poco sì l'ho trovato subito benone ok finiamo questo livello cercando di non farci colpire e abbiamo il minifungo c'è da dire che in queste condizioni con questi salti che riesco a fare non mi devo preoccupare praticamente di nulla sono leggerissimo avanti così allora ce l'abbiamo fatta siamo arrivati alla fine del livello senza farci colpire bene adesso torniamo alla casa stregata quindi saliamo qui non entriamo nel tubo e andiamo più su ok benissimo aspetta era qui sopra sì sì bello e abbiamo preso tutte e tre le monete avanti allora ci hanno mandato all'uscita non so se era anche l'uscita era anche l'uscita secondaria grande due piccioni con una fava così mi piace meno male non ci sono dovuto ammattire come con quell'altra casa stregata ok ok quindi se tutto va bene in questo gameplay dovremmo riuscire a finire la mappa quindi vai nuovo livello siamo sì ok non lontani dal castello vediamo cos'altro ci danno oh ok mario guscio o shell mario mario conchiglia livello sotterraneo e le bombe ok ok ma io francamente preferisco il è attiva ok quindi con le bombe possiamo distruggere i blocchi indistruttibili buono a sapersi non so quanto ok quindi aspettiamo che esploda e dovrebbe aprirci un varco perfetto aspetta però qui qui escono in continuazione prima di fare quals prima di fare qualsiasi cosa voglio vedere rimbalzando qui no nulla va bene mi domando se qui c'era qualcosa ok abbiamo fatto tipo lemmings abbiamo aperto il barco e sono cadute lì sotto calma che questi blocchi vanno verso il basso oh grande bene quindi questi sono tutti i blocchi duri quindi per cui quella esplodendo dovrebbe permetterci di andare sopra non so se ci sarà una vita eh sì mamma mia qui si va sopra benone abbiamo anche preso eh sì noi abbiamo preso il checkpoint ma eh monete monete ancora non ne vedo come al solito mal che vada torniamo indietro per cercarle oh lì intanto ce n'è una e va bene però aspetta ok aspetta sfondiamo qui attiviamola scansiamoci bene vediamo se questa è la prima la seconda dovrebbe essere la seconda no invece la prima ok non ne abbiamo perse ponti levatoi che oltretutto traballano anche ora ok lì c'è un'altra monete aspetta questi di sicuro sono blocchi soliti noi dovremmo fare in modo di colpire la bomba eh non era proprio lì che volevo colpirla ma mi chiedo se ce la possiamo fare sì calma ferme buono con questo cuscio attenzione che questi ponti si aprono aspettiamo che si richiudano ok occhio non so se possiamo saltargli sopra non me lo ricordo franchinamente tuttavia tuttavia abbiamo risolto qui non vedo nulla di che iiii ma che cazzo no 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 fermi buono via perché ho queste bombe ah però aspetta lì sotto c'è un tubo ok allora prendiamo non so se possiamo portarceli dietro sì sì mamma mia per il rotto della cuffia ma ce l'abbiamo fatta oh ah qui c'è un giochino da fare vediamo se basta eh mi sa che ho sbagliato troppo lontano ok fortunatamente abbiamo anche quest'altra oh ok l'abbiamo presa ugualmente ma va bene ehm non so se basta ok sì perfetto non dobbiamo rientrare nel tubo tuttavia sapete che c'è siccome io sono uno che se la fa sotto e sta finendo anche il tempo prendiamoci il fiore che è meglio ah noi eravamo arrivati ma pensate va bene non fa niente e bene così grande finito il quinto livello qui intanto ci sono delle case di Toad tuttavia le sbloccherò più avanti me le voglio tenere per gli ultimi mondi hai visto mai dovessi perdere tutto quanto tutte le vite 70 vite penso che per perderle tutte ok siamo di nuovo sopra al lago di Likwami e c'è di nuovo il nostro amico mostro di Loch Ness qui oh calma oh oh si lui si abbassa e io prendo un fiore di riserva non abbassare troppo il muso che se tocco quelli qua me schifoso muoio e ho capito si vabbè no il monetone è lì sopra aspetta ok manovra disperata via le tartarughe a posto molto meglio del previsto prima moneta stella recuperata appappappam tuttavia oh vedi vedete che saltare nei posti sospetti conviene sempre lo facciamo a prendere un po' di monetine sui ok lui passa sotto non so se in questi turbi ci possiamo entrare no oh bravo riemergi qui c'è un interruttore P e c'è anche un'altra moneta tente a non cadere tubi rossi attenzione che magari in uno di questi si può entrare no stella no io li sto provando tutti ehm alzeresti la testa gentilmente questa era probabilmente un'uscita secondaria neanche ho visto se questo era un livello rosso effettivamente sono entrato così sì terza moneta e neanche l'ho fatta apposta e una vita grande ah ok avanti allora abbiamo preso tutte e tre le monete e probabilmente non so se siamo se abbiamo preso la strada alternativa no questo qui è il percorso serio aspetta calma no non si può entrare va bene quindi niente evidentemente abbiamo preso una scorciatoia per prendere anche la terza moneta stella bene adesso vediamo se questo tuttavia era il percorso vero no ok era un livello blu ci siamo ultimo castello di questo mondo mmm dai stavo vedendo sulla mappa che però i percorsi non risultano quindi se io lo sblocco alla fine sulla mappa compare è anche una scusa per salvare il gioco hai visto mai va bene e allora prendiamoci qualche vita tanto le vite a prescindere posso sempre tornare a prenderle nei primi livelli ok vediamo mastro toad che ci porta fortuna solito giochino di fortuna dai stavolta senza mezzi termini partiamo dall'inizio 1 2 3 4 maaa grande così becca mastro toad becca grande ok senza perdere altro tempo a questo punto no porca miseria che sbaglio con i tasti sblocchiamo anche questo percorso però il bonus non lo facciamo andiamo direttamente al castello vuoi salvare? certo che si e allora vai castello 81 vite oh allora occhi aperti aspetta facciamolo scendere ah ok soltanto una monetina sotto c'è un lago di lava tanto per cambiare piore che già avevamo ma noi per scrupolo ce lo prendiamo sempre iiii tartaruga tartosso saltiamo da una piattaforma all'altra uh buono ah mi brudo il naso me lo faccio amputare questo naso tuomp pam 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 facciamo sempre attenzione in realtà qui avrei anche potuto fare uno scatto eh per passarci tutto dunfiato tuttavia andiamo con cautela mmm passiamo di qua basta che non c'era una moneta no possiamo anche andare sì era indifferente del percorso che prendevamo oh mamma questa è facciamogli sfondare il pavimento che ho una ho un presentimento forza forza su su anzi giù vediamo un po' sì mamma mia e siamo a due po 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 altro fiore ok go down aspetta facciamo scende mamma mia mi ha grattato la schiena anche tu sei immenso però mi sembra che questa volta no aspetta noi li facciamo distruggere fermi tutti indietro ci siamo non vedo palle di fuoco che esco sì eccole ok ah che cavolo bene una vita ed ecco l'ultima moneta oh e beh mi tocca saltare così no porca a posto rischio tantissimo abbiamo perso il fiore ma non mi interessa useremo quello di riserva prima pacca miseria vediamo di farci ammazzare proprio adesso eh mi raccomando attenzione attenzione fu qualche blocco nascosto qui no ok usiamo il fiore di riserva mio viene entriamo che ci aspetta qui oh goomba oh porca vacca aspetta 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 no posso schiacciarlo sì anche così siamo le palle di fuoco siamo le palle di fuoco sia rimbalzando così otto grande e stavolta niente bivistrani perfetto anche il quarto mondo l'abbiamo finito ora possiamo andare finalmente al quinto mondo il mondo delle nevi ci eravamo già arrivati tuttavia ho dovuto fare quell'altro mondo altrimenti il spirito completistico andava a farsi friggere ho scoperto o meglio riscoperto una cosa che avevo completamente rimosso ovvero se noi sul menu teniamo premuti i tasti L ed R e poi premiamo A qui Luigi esatto potremmo giocare nei panni di Luigi l'avevo completamente rimossa questa cosa ed è fantastico non che ci siano dei cambiamenti a livello di gameplay mi sembra di ricordare che è tutto uguale una cosa puramente estetica per chi preferisca Luigi al posto di Mario tuttavia visto che ci siamo diamo un po' di spazio anche a Luigi e partiamo col primo livello del quinto mondo mondo innevato via io non riesco a trovare la posizione giusta ora ecco qua oh oh va bene se per te va bene così grazie quel simpaticone ci ha fatto fuori un'intera fila di gumba che poverino ci entrava in un tubo ma ci è caduta la neve sopra va bene facciamo attenzione proprio perché probabilmente se ci cade sopra mentre stiamo nelle vicinanze di qualche mostro potrebbe essere male qui c'è la neve morbidosa che che ci ingloba oh oh ecco appunto che ci ingloba come faccio a saltare lì sopra? devo prendere un po' di rincorsa? va bene fiore del fuoco aggiunto alla nostra riserva e continuiamo oh eh va bene esci Luigi dai e poi una cosa che mi sono sempre chiesto e sicuramente se la saranno chiesta tutti ma noi abbiamo le palle di fuoco ma non dovremmo sciogliere ghiaccio neve mamma mia stava per tirarci una cosa addosso ed ecco la prima moneta ehm ah no convinto che fosse uno strapiombo ehm sicuramente ecco dovrebbe bastare ho sentito un suono che non mi è piaciuto per niente tuttavia intanto noi prendiamo la prima moneta oppla ecco fatto avanti fiore il mondo del ghiaccio ha un suo fascino devo saltare sopra questa pola d'artaruga? no probabilmente avrei potuto sfruttare anche questo blocco ma visto che noi ci stavamo ne abbiamo approfitto no no è la fine è la fine non era la fine aspetta tu amico mio ecco qui sopra invece cosa c'è? cosa c'è? niente e niente va bene allora proseguiamo ragazzuoli sto vedendo che gli iscritti stanno aumentando a vista d'occhio sono oh porca miseria a momenti sono morto sono veramente contento sono veramente sono veramente uforico continuate così mi fate felice e mi spronate ad andare avanti e fare sempre meglio mi sembrava strano è ovvio che questo si gi- aspetta un po' facciamogli lanciare la palla oh mamma mia che fortuna tiè meno male che quel blocco di neve ci ha abbassato oh siamo arrivati alla fine del livello e io chiacchierando non mi sono neanche accorto che comunque ho preso tutte le tre le monete stella yeah for me, luigi yeah for me, luigi I'm luigi number one ok qui c'è una biforcazione intanto apriamo il sentiero qui sotto paghiamo il dazio di 5 monete tanto ne abbiamo in abbondanza e ci sono due livelli con ciascuno un'uscita segreta vediamo se riusciamo a trovarle via mentre gioco intanto vi parlo di una cosa di una mia idea o meglio un'idea che mi hanno dato alcuni amici mi hanno suggerito di aggiungere il mio link post pay sul canale per quanto riguarda le donazioni dunque io il mio canale non è ancora monetizzato e probabilmente non lo sarà ancora per un bel po' e allora mi hanno detto scusa eh ma metti caso qualcuno volesse farti qualche regalo qualche donazione io premetto ragazzi non ci credo neanche un po' perché voglio dire sono un canale piccolino non è che oh mamma che miro a diventare il più grande youtuber del mondo anzi però tuttavia io l'ho messo disponibile nella descrizione nelle note qualora qualcuno volesse offrirmi un caffè non dico oh monete non dico che pretendo chissà cosa perché per carità ragazzi non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' tuttavia per quanto riguarda le entrate che frutterà questo canale quindi sia per quanto riguarda la post pay sia per quanto riguarda che io ho appena perso una vita per quanto riguarda eventuali introidi che ci saranno qualora riuscissi a monetizzare tutto quello che ne verrà fuori io lo investirò su questo stesso canale quindi per comprare attrezzature migliori vuoi un nuovo microfono di quelli professionali vuoi una nuova scheda d'acquisizione più efficiente anche se per il momento questa va più che bene vuoi metti caso un giorno dovessero venirne fuori i big money anche un bel pc da gaming non dico ultimo modello ma comunque quanto basti per sostenere i nuovi giochi e portare anche gli ultimissimi giochi questa ovviamente ragazzi è tutta teoria io sto chiacchierando così tanto per dire tuttavia il link l'ho aggiunto poi il resto starà a voi oh intanto abbiamo trovato un'altra moneta la seconda moneta che prenderemo con questo trampolino dopodichè noi prendiamo questo trampolino e lo usiamo per entrare in questo tubo giallo ed eccoci di nuovo all'aperto oh mamma ma tu cosa sei? finchè scappi ah mi dai le monetine allora oppa oh no non voglio unirti addosso vita ed ecco lì sopra la la moneta centrale che avevamo tralasciato buenos allora possiamo andare a finire il livello ah però comunque qui c'è un'uscita secondaria quindi ricordiamoci che dovrebbe esserci porca miseria abbiamo perso il fiore vabbè pazienza cerchiamo di non perdere anche tutto il resto se fossi passato sopra ci avrei messo una vita probabilmente tutti questi pipistrelli ci sarà un qualche passaggio da qualche parte qui cosa c'è? ottimo fiore del fuoco peccato che questi beetle puntuti queste enelle appuntite non siano porca peccato vulnerabili al fuoco vediamo lì intanto c'è un tubo quindi noi intanto ci apriamo una strada quanto sono lenti forza su su che voglio andare a vedere pian pianino si entrava per davvero io ci ho provato proprio per scrupolo per scrupolo ma mi sa che senza volerlo abbiamo trovato l'uscita secondaria ottimo yeah for me luigi ok come da prassi rientro e sblocco l'uscita principale qui intanto abbiamo sbloccato un tubo che ci manda più avanti però visto che noi dobbiamo farci tutti i livelli come se niente fosse ok ci vediamo all'uscita di questo livello eccoci qui ragazzuoli stavolta passiamo sotto vediamo se qui c'è un fiore no non si entra e allora proseguiamo mamma mia quanto rischiato avanti ok facile facile era proprio un pezzettino in più tanto per gradire la solita piramide ed ecco l'uscita normale beh non è così fa uno strano effetto giocare nei panni di luigi e siamo alla torre tuttavia noi andiamo sotto e vediamo cosa c'è qui 86 vite che so delle lampade uh ah figo insomma figo ma estremamente pericoloso andiamo con calma sto registrando sì ho visto una luce strana avanti ah terraferma cerchio con le monete rosse che cosa ci darà una vita porcaccia miseria preso vita per noi altro fiore tanto lo abbiamo anche già in riserva qui sotto ci sono dei blocchi da attivare quindi ci sarà un tasto P da qualche parte eccolo là sotto insieme alla prima moneta stella aspettiamo che si allarghi questo fungo questa piattaforma diamogli tutto il tempo necessario non facciamo quindi ah beh ok dai abbastanza semplice qui davanti qui davanti non c'è nulla ah ok ok ah oppla ricordate sempre quando prendete in mano le conchiglie delle tartarughe che dopo un po' si risvegliano uh una pianta che ci porta a un livello bonus soliti livelli con le monetine da raccogliere va bene ah no stavolta c'era anche la moneta stella altra vita giù oh ok qui sotto ok blocco monete che non prendiamo al 100% ma pazienza allargati vien oh 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 aspetta colpiamolo da sotto no ecco nooo che modo stupido di perdere una vita però qui il compenso c'è eccola qua la terza moneta stella ci arriviamo no che non ci arriviamo calma oh mamma amen non mi importa nulla abbiamo preso le tre monete stella e questo è quello che conta se la cava bene Luigi eh nonostante sia il fratellino spalla di Mario ah no questo era un livello blu chissà perché ero convinto che fosse rosso bene ed eccoci alla torre vai vediamo che ci aspetta oh altro livello su un ascensore teniamo gli oh palle 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 ed ecco la prima moneta facciamo estrema attenzione perché qui queste palle che fanno avanti e indietro basta distrarsi un attimo ed è fatta e visto che io vorrei conservarmi il fiore del fuoco oh oh grande eh finchè è così dai basta ma porca miseria finchè è così è tranquilla è matematicamente impossibile essere colpiti ah comunque vai seconda moneta stella quindi sicuro c'è un fiore e caccia stupide palle stup oh quanta è grossa oh quanta è grossa ah però in compenso distrugge le altre sti però adesso adesso c'è quella ah ah grande abbiamo preso gnega le tre moneta aspetta calma calma non voglio fai si è isolata di là e noi comunque abbiamo un fiore del fuoco come riserva finchè la palla resta qui ah se n'è andata bello uh grande fungo contro cosa ho intruppato ma c'erano delle punte porca miseria ora siamo piccoli mmm va bene rischiamo non dovrebbe chiudersi nella corazza si riproviamo va bene bowser junior ecco ora si che si ragiona e come al solito scappa ah help un'altra casa stregata ma sbaglio questa seconda parte è un pochino più lunga certo che si che salviamo ok apriamo questo sentiero che ci porta ad una casa di toad che noi non useremo per il momento salviamo lì da destra c'è la maledetta casa stregata ma per il momento noi ci andiamo a fare quinto mondo terzo livello mettiamoci un po' più comodi ed eccoci qua di nuovo sulla neve fiore gumba e si scivola per quanto possa essere rischioso rischioso e terribilmente divertente e e e abbiamo anche preso una vita aspetta no moneta grande meno male che non sono andato sotto cosa c'era sotto o o mamma moneta ok passiamo sopra che è meglio anche io anch'io sono andato a tempo stavolta o o o o o uff gumba testina in alto petto in fuori vai gumba raggiungi gli altri gumba oh una pianta dove ci porti in una zona alta non so se ho fatto bene o male se stiamo continuando con il livello sì probabilmente sì porcaccia miseria però tuttavia io non so se lì sotto c'era qualcos'altro da prendere quindi nel dubbio muoio eh no invece c'era l'altra moneta c'era calma e sangue freddo come cavolo la prendo devo essere piccolo qui però c'è un tubo brutta storia ragazzi devo farmi colpire vediamo se basta scivolare oh grande è andata bene è andata bene e tu cosa cavolo sei cosa cavolo vuoi non lo so ma quello spuntone sul naso non mi piace per niente aiuto calma non ci facciamo colpire buono anche a tempo vediamo abbiamo preso due eccola grande così sì questo è proprio a puro caso no via e ci siamo dai abbiamo preso tutte e tre le monete stella che mi aiuti a salire grazie sei molto gentile sotto specie di lumacone mutante assassino ehm sì aspetta eh ecco sta finendo il tempo ma noi abbiamo finito anche il livello oltretutto con una vita in più vai così luigi benone benone ed ecco ed ecco la casa stregata quanto le odio le odiavo su super mario world e le worde su super mario world e le odio qui e c'è anche un hammer brother in onore di metal gear solid bene 91 vite beh non stiamo messi affatto male e qui facciamo la conoscenza di questi fantasmini pugili che sembrano avercela a morte con noi ehm tuttavia li potremmo usare ci faranno comodo perché come vedete riescono a distruggere questi brocchi questi blocchi quindi ci faranno comodo per aprirci la strada uh una conchiglia però aspetta quello lì sotto sta distruggendo dei blocchi vediamo se riusciamo a passare lì sotto fantasmino ottimo rimane lì sopra a posto e saliamo quindi vediamo un po oh ciao che mi dai una mano a spaccare tutto gracias oh oh io me ne vado ah qui si può salire ne facciamo salto rimbalzo e troviamo una fantastica moneta stella che è la prima benone allora proseguiamo qui non c'è altro uh lì c'è una porta però ce la faccio ad arrivarci con un agile balzo no forse con un po' di rincorsa sì bene ma voi siete scemi aspetta oh mamma mia ce l'abbiamo fatta ok dietro e siamo a due monete stella e siamo a due monete stella ma comunque vi dirò tutto sommato è meno frustrante questa casa stregata eh pensavo molto peggio ragazzo mi dai una mano beh tanto lì di sicuro c'è un fiore io per il momento voglio tenermi questa conchiglia evviva come non detto allora no 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 sto facendo la fine proprio del del topo ora qui ci sono dei blocchi perché ci sono dei blocchi perché qui c'è qualcosa ovviamente no come non detto vabbè oh no no c'era una pianta oh mamma 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 fatto grande ah è vero sì 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 no non è vero ascensore dei mostri brutti non mi uccidete ok e se usassi il fiore aspetta non usiamo il fiore mamma mia fiore meglio averne uno in più che una vita in meno aaaaaa sembra di stare dentro è un parco giochi era qui qui c'era eccolo ricordavo bene fantastico trovando questa stradina secondaria potremmo recuperare la terza moneta stella e qui si sale opla su su e su l'ascensore ci avrebbe portato ciao fantasmino ci avrebbe portato qui non c'era altro e allora vamos la flamenco cosa c'è qui ah un trampolino eh forse non è stata una cosa proprio giusta però magari ah ok abbiamo anche scoperto l'uscita segreta grande quindi abbiamo sbloccato l'uscita segreta e abbiamo raccolto tutte e tre le monete hmm quindi sbloccato questo cannone rientro nella casa e la finisco normalmente a tra poco via ok stavolta senza prendere la pianta saliamo per di qua oh aspetta io non voglio ucciderli perchè in me di caso poi mi aprono qualche porta secondaria questa è la porta che abbiamo preso prima qui non c'è altro e allora ok altro ascensore via 95, 96, 97 e vai che prendiamo un'altra vita eccola e saliamo tanto ormai so come fai e mamma mia c'è anche un fantasmino lì ok questo è molto l'effetto l'effetto delle torri gemelle nei lunapark iuu ah meno male pensavo che ricadeva giù ciao fantasmino vieni qui non posso ucciderti vero? no sei invulnerabilmente immortale comunque eccoci fuori e anche questa maledetta casa stregata ce la siamo tolta dalle scatole vai yeah for me, Luigi yeah for me Luigi he he Wario ma Luigi vabbè basta ciao Hammer Brother ma questo livello... ah ci siamo dimenticati il livello dietro ok e allora andiamo a farlo sblocchiamo il sentiero spendiamo le nostre cinque monete salvataggio salvato via 92 di nuovo al ghiaccio al freddo fiore oh mamma mamma monetina andiamo piano perché ci stanno questi cosi nuovi con lo spuntone al posto del naso che non mi... piacciono per niente come ci arrivo lì su... porcaccia miseria aspettate forse non cadere di sotto bravissima tartaruga ecco qua ok qualche monetina speravo mi portasse in qualche posto nuovo invece niente ah no no va bene proseguiamo gumba di qua gumba di là ecco fatto lì c'è... oh ok si la posso prendere tuttavia prima vediamo cosa c'è qui una vita aspetta un po' aspetta 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 forse posso evitarmi sì prima moneta stella del livello bello è un fiore del fuoco per noi calma lì c'è un'altra moneta stella e e e e e e e e come cavolo la prendo facciamo una bella cosa intanto noi no 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 non posso morire in modo così stupido no 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 che cretino ah vacca miseria va bene ci rivediamo lì dove sono muerto fortuna che il checkpoint è il nostro amico ora mi raccomando moriamo di nuovo come prima bene lì sopra c'è uno switch p ma io ho visto quello che c'è quindi aspetta ah no mi sembrava che fosse un passaggio più basso io mi stavo portando tutto sgargiullo un guscio dietro perché dico eh eh voi mi fregate ma no ho visto male gli occhi mi hanno tratto un inganno quindi comunque siamo a lì c'è la terza moneta e come cavolo la prendo stavolta sempre con lo stesso sistema andiamo un po' no ragazzi io penso di avere qualche allucinazione vedo cose che non ci sono pensavo che la moneta stesse sospesa nel vuoto e che dovessi lanciarle un guscio di tartaruga ok comunque sai che c'è io me ne vado non c'era nulla qui allora adesso aspetta un po' siamo arrivati eh perché siamo arrivati tutti uuuuuh mazzarola eh qui non posso venirci col guscio qui mi ci vuole mario guscio va bene finiamo il livello andiamo a cercare un guscio e ci proviamo e ci proviamo non posso neanche portarmi dietro la tartaruga niente finiamo vado a cercare un guscio e ci rivediamo in questo punto qui a tra poco ah beh sì intanto abbiamo sbloccato questo percorso vado a cercare un guscio hai visto mai che in questo blocco qui ce ne sia uno sì grande eh però adesso mi devo rifare tutto quanto il mondo senza morire va bene proseguiamo a tra poco oh ed eccoci qua stavolta ci sono ed ho il guscio quindi corriamo pom 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 no calma ecco fatto buenos abbiamo le tre stelle le tre monete stelle ah così oh oh iuuu fantastico una vita e anche questo è andato oh oh se ne va rotolando nel guscio quindi apriamo anche questo tubo che ci avrebbe condotto dove proprio all'ultimo all'ultimo castello tuttavia a noi non ci interessa noi ci facciamo tutto sblocchiamo anche questa casa di Todd salviamo e ce ne andiamo a fare questo livello qui 96 oh livello sotterraneo eh sì oh buzzy beetle o nella per noi italiani oh anche qui aspetta però non ti voglio uccidere quindi quindi noi proseguiamo monetine monetine non mi interessano voglio oh oh forse lì sopra si può salire però allora vediamo un po' eh l'int e qui c'era una moneta ma probabilmente mi serve il fantasmino eh visto che non l'ho ucciso io teoricamente potrei farlo tornare qui dove si va da nessuna parte va bene dimmi che torno al fantasmino grande fantasma spacca tutto vieni qui vieni qui vieni qui oppla ma ma io da sopra no non posso distruggerlo mi sembra facile ciao prendiamo la prima moneta stella del livello ehm oh mamma occhio che quelli ci cascano addosso teum giù e via oh no non voglio andare anch'io quelli intanto si sono scont... oh oh che broccolo ora ehm qui sotto c'è un pass... nooo ma lo vedi dai ci rivediamo qua ok ci siamo adesso ah ci lasciamo scendere fermo vabbè che ci importa è un paio di pifferi che ci importa mi serve quel guscio mi serve per lanciarlo e recuperare la moneta calma la fortuna è dalla mia ci siamo a parte che credo che quello respawnasse non vorrei che questo mi si risvegliasse in mano tuttavia vai oh bene seconda moneta stella presa ora cerchiamo di non morire gentilmente mmm chissà se qui sopra c'è qualche oggetto no oh vita ehm si aspettiamo che cada cioè qui fantastico completamente inutile ora qui qualcosina me la ricordo vi faccio vedere usiamo il nostro fiore sperando che non appaia sopra bene e liberiamo qui sopra perché intanto uccidiamo questo fantasma perché qui c'è una pianta e se noi non distruggeremo i blocchi lì sopra la pianta si fermerà qui dopo neanche un metro invece così possiamo andare in alto e recuperare la terza moneta stella tuttavia bisogna fare attenzione perché ci sono questi fantasmini che dovremo sfruttare per distruggere quei blocchi lì sotto e per farlo noi dovremo non ucciderlo tanto per cominciare e poi ecco qua grazie e poi scendiamo qua tutto a posto pam 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 bravo Luigi e anche questa è andata non ricordo se c'era un'uscita secondaria no ok e abbiamo ricongiunti due percorsi allora siamo ad un passo dal castello sblocchiamo questo funghetto di Todd anche se non lo useremo perché abbiamo quanto abbiamo? 96 vite dai su siamo seri ci manca questo livello prima del castello ho fatto anche la rima avanti così togliamo il puntatore sempre sotto questa soffice neve oh livello a scorrimento automatico funghi che si abbassano appena li tocchiamo tuttavia la sfanghiamo oh porca miseria anche i bullet bill proiettili bill iiii grande facciamo attenzione perché queste maledette piattaforme scendono appena saliamo ah ok quelle arancioni scendono e quelle rosse salgono ha un senso tartarughina opla fatto non rimaniamo troppo vicini al margine destro dello schermo perché altrimenti ci becchiamo una pallottolata tra le gengive e vabbè si stiamo bene così no no eccolo ah ma c'è un limite a quanto si alzano e quanto si abbassano io pensavo che mi faceva cadere di sotto tiè dov'è aspetta no no ma che cacchio arproviamo vediamo se così riusciamo a darci lo slancio ecco stavolta abbiamo fatto bene qui c'era anche oh porca miseria questa come la prendo no aspetta aspetta sì grande la forza è potente in me e ora ehm sì buono cosa mi sarei perso qui soldi e non lo saprò mai tuttavia andiamo avanti e qui oh ehm no probabilmente un fiore una vita non mi interessa l'importante è che riusciamo a prendere le nostre brave le nostre brave monete stella e abbiamo preso anche la terza grande così quindi ora via oh mamma no porca miseria ho perso il fiore proprio alla fine e vabbè intanto abbiamo comunque la riserva con te non ci faccio nulla dai che stiamo alla fine dai che stiamo alla fine cerchiamo di mantenere basta fatto la bene yes Luigi ok e anche questo è andato deregia ah vedi ah vedi potremmo comunque andare di sotto qui c'è dove abbiamo sbloccato il tubo ok avanti allora novantasei vite uh tapirulan fantastico un fiore all'inizio mmm io comunque sono troppo spericolato devo andare con più calma altrimenti rischio veramente di finire male mmm sì certo becca arrostiamo questa pianta in tutta calma ed ecco la prima moneta stella ce la faccio assaltare da qui e come no attimo di calma vai monete dove vai fungo vieni qui ok cosa sparo che tanto sono immuni salto da pazzo e ce l'abbiamo fatta oh povera non riesce a camminare tiè ma quindi adesso lui dovrebbe andare inesorabilmente incontro alla morte cioè morte è già morto quindi sarà semplicemente stato spedito di sotto occhio che questa spara però eh oh l'abbiamo colpita lo stesso lì c'è una moneta stella tuttavia forse da qui possiamo passare no però c'è un uno spazio aperto sul davanti quindi forse la posso raggiungere da questo oh trampolino aspetta proviamo no torna qui non ci provare è tartaruga che respawnano va bene allora proviamo ma no aspetta eh respawno anche il trampolino vero sì grande ma quante cavolo siete forse ce la potevo fare anche da lì non lo so comunque fatto sta che abbiamo recuperato anche la seconda moneta ora dobbiamo solo evitare di farci accoppare bravissimo Ivan sei un mastino sei ok ehm senza palle di fuoco aspettiamo che passa mamma mia questo di cavolo non mi dire che respawna no perfetto oh mamma quanto si pattina ma maledizione ok lì c'è anche un blocco casuale quindi in realtà cosa un mini fungo ma che cavolo vabbè ehm ferma lì sai va bene teniamoci il mini fungo mhm lo so che sto andando incontro ad una morte incredibilmente stupida però visto che ci siamo e che capita una volta ogni morte di papa lì c'è la terza moneta anzi in teoria e che cavolo devo passare sotto oppure sopra forse sopra e ci sarà un punto aperto aaaah eccolo ok ok eh forse avere il mini fungo qui non è stata una brutta idea anzi benvenga ok corriamo eh non si cadeva qui si che si cade calma aspetta ehm maledizione ok qui che cosa mi dai? ah ma e porca ok wow boss uh pipino piragna non ci si vede da mario sunshine ma non lo dovevi svegliare così male emmm ok come ti combatto? stavolta non ho lo splac tremi ah ok ok va bene allora aspettiamo che cada ma ora salta non vola più povero slitta cade e ci da la chiave buono yeah for me luigi grande oh oh porco cane lì sotto c'era una biforcazione ragazzi mi dovevo tenere quel maledetto minifungo ahhh una nuova biforcazione che ci fa scegliere tra il sesto e il settimo mondo ok emm sì salviamo salviamo torniamo indietro vado a cercare un minifungo faccio anche questa parte e noi ci vediamo alla fine di questo lungo tragitto che mi aspetta a fra poco ok siamo di nuovo mini ammetto che ci ho dovuto provare svariate volte perché non ci riuscivo comunque l'importante è che ci siamo ok avanti fino al boss adesso ci siamo eccolo e fatto cioè la chiave è tipo quattro volte lui e adesso giù ha sbloccato anche questo bivio che poi a ripensarci avrei anche potuto farmi prima tutto il mondo 6 e poi tornare di qua però ma anche questo è in ah no questo è sulle nuvole che spettacolo ok salviamo e andiamo al sesto mondo avanti col puntatore sesto mondo che sembra un mondo un mondo montuoso è un mondo per lo più montuoso va bene già qui abbiamo una biforcazione tanto ah ok pensavo di aver sbagliato sblocchiamo subito quest'altro livello salvare certo e ce ne andiamo a fare il primo livello con 98 vite oh cannoni e noi siamo anche mini maledizione vabbè qui ci sarà un fungo il primo blocco grande ok ok ora già mi sento un filino più tranquillo tuttavia questi cannoni oh oh ah ma pensavo fosse uno porca miseria in piena panza mi ha preso pensavo fosse uno strapiombo invece è un solo un settore un settore uno spazio sottile su cui camminare pian pianino e anche i salti sono ridotti quindi occhio qui c'è la prima moneta ecco fatto pocio a questo proiettile scendiamo con eleganza e qui sopra dobbiamo fare a rimbalza muro oppla oppla no tuttavia qui c'è un bonus e lì la seconda moneta qui c'erano solo solo monete classi monete normali va bene avanti allora qui è tutto uno sbattimuro sbattimuro calciamuro bisogna solo prendere bene le misure e ok seconda moneta stella presa porca miseria e dai fiore grazie zona chiusa e a posto andiamo siamo a metà livello e si è tutta una cosa porcaccia miseria e vai a quel paese sta aumentando la difficoltà di gioco eh ora attenzione posso sparare mentre sto così assolutamente no bene che mi succede se se vado lì sotto probabilmente muoio quindi noi andiamo andiamo con calma così bene ma voi siete matti no ce la faccio ce la faccio vai olio cuore luigi oh eh qui sicuramente eh non so se era qui la terza moneta sta a vedere che devo tornare a prendere un altro minifungo oh oh no no eccola calma ah ma mi posso calare eh come mi che miseria bene ok ce l'abbiamo fatta quello in quel minitubo probabilmente era un livello bonus Luigi l'importante è prendere le tre monete ok primo livello di questo sesto mondo sorpassato e lì c'è un livello acquatico tuttavia noi ora ce ne andiamo qua dove c'è anche un doppio una doppia uscita via oh questa volta no lucky tu quanto ti odio lucky tu no toccherà cercare una stella una moneta stella su questa nuvola non ne ho idea uh aspetta un po' oh oh sì aspetta qui c'è qualcosa qui non c'è un tubo sto rischiando la vita veramente perché eccola perfetto speriamo che non ci sia un dirupo qui sotto grande mi sembra che con questi tornati tuttavia potevamo venire sbalzati su ah ok avremmo potuto prendere la moneta stella anche in questo modo d'accordo oh 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 cosa vuoi tu possa via non ci provare qui c'era qualcos'altro no solo sabbia mob questo pozzo non me la racconta giusta c'era su super mario 3 una cosa del genere guarda la figura di cacca che muoio no c'era un sottopassaggio oh aspetta calma presa meno male mi sa che se cadevamo non la potevamo più recuperare vabbè oddio sei diciamo che facendo un po' di di balsamuro ce l'avremmo anche potuta fare perfetto un po' di monetine e via buono mannaggia la miseria è il caso che ti trovi una ragazza laghi tu oh ragazzo non ho mai capito se è un maschio o una femmina ma nooo c'è addirittura due in contemporanea o anche tre aspetta io devo vedere cosa c'è per che maldizione scendiamo beh finchè sta lì sopra non dovrebbe neanche una stella porca tubo si entra si qua ma no sto rischiando tantissimo non ce la farò mai non ce la farò mai e qui pure si entra oh 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 e e qua mamma mia vai ora ora se riesco a non morire sotto l'assalto di queste due malditi no 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 em porca vacca morite tutti morite annegate affogate sprofondate ma come ca... come cavolo esco da qua devo ritornare dall'altra parte sì ok risalto mamma mia ok siamo tornati indietro eh ma quindi qua devo sbloccare ok intanto un fungo maledizione andatevene ok probabilmente devo chiudere questo passaggio passaggio e poi passare sopra ma... non sono rimasti prima li ho sbloccati ma non sono rimasti proviamoci anche perché se non si sbloccano no eeeh ah giusto giusto ok va bene mamma mia eh non poteva... non poteva finire normalmente dovevano colpirmi almeno un'altra volta ok eh lo so che sta finendo il tempo tranquilli ce l'abbiamo fatta con oltretutto 99 vite bene bene probabilmente quest'episodio sarà un pochino più lungo perché ho dovuto recuperare i due livelli precedenti ma... no vabbè dai ancora un livello dai dai facciamoci una tirata così ci rimettiamo in paro oh che meraviglia tropi... livello tropicale con alte e basse maree e noi siamo anche piccolini non riusciamo via vai vai blocco mmm grande vieni qua bello di casa tu mi dai un fiore? no solo monete ma... proprio ti ho di monete qui le monete stella non ci sono vero? no e allora serenamente andiamo avanti ah qui sta proprio oh maledizione stramaledizione eh grazie adesso scendi mmm è qui che me... ah beh sì vediamo se facciamo in tempo yaa peccato tuttavia siamo come al solito quasi a metà livello e io ancora non vedo monete stella se... se avessi le palle di fuoco ma io ce le ho le palle di fuoco qui mi sto tanto dannando l'anima porca miseria ecco ora tremate mmm sono io che tremo devo dirlo ragazzuoli sta aumentando la difficoltà non so se è la difficoltà o molto più probabilmente la mia impeditaggine ormai con questi giochi oh qui si muo' qui si muore sì ma le maledette monete stella non ne ho trovata neanche una ecco facciamo piazza pulita vediamo un po' qui sotto cosa c'era niente buono quindi oltre le 99 vite non si va e oltretutto qui si entrava pure in orbita oh figo siamo tra le nuvole oh porca vita sono andato a beccare l'unica vita che non ho preso ma del resto siamo a 99 vite dai mamma mia quanti gna gna è il livello bonus più inutile del mondo questo eh vabbè ma devo colpirli tutti? ah 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 bene bonus completamente inutile niente speravo ci fosse una moneta stella se torno indietro qui ecco mamma mia meno male che sono tornato indietro quindi un attimo di pazienza eh non la dobbiamo aspettare che arrivi la marea sale e scende la marea sando cancia la diarea si diceva una volta ritorno indietro ok tutto a posto aspettiamo di risalire no ma che mi devo rifare quel pezzo no tu mi spari a destra bravissimo ok possiamo andare avanti lunghi questi livelli eh e abbiamo comunque perso la prima moneta ragazzi dovrò tornare a cercarla intanto cerchiamo di prendere la terza qui c'è un tubo no la marea scende no aspettiamo ok ok no ah no questa è un'uscita qui c'è un bonus casuale mi chiedo a cosa serva fung me lo do in faccia aspetta un po' un attimo hai visto mai qui sopra facendo un rimbalzo no e allora proseguiamo porca ok lì intanto abbiamo visto l'ultima moneta stella yeah come si raggiunge una stella corre anche la musica della stella ok finiamo questo livello anche perché altrimenti rimaniamo fuori anche col tempo qui siamo sante palle di fuoco sante palle di fuoco ok uno due e tre ok ragazzi torno a cercare la prima stella e noi ci vediamo direttamente al suo recupero tuttavia qui intanto andiamo avanti siamo al castello ok un ultimo sforzo e poi finiamo questo gameplay oh qui c'è un blocco aspetta saliamo sopra una piano oh ci siamo ragazzi sono tre volte che rifaccio questo maledetto livello forse finalmente abbiamo trovato qualcosa va bene dove ci porti cerchiamo di non cadere ah finalmente ce l'abbiamo fatta porca miseria non sapevo più che fare va bene vado a finire il livello e noi ci vediamo tra pochissimo ah finalmente ci sono stato penso quasi mezz'ora a fare avanti indietro avanti indietro avevo quasi abbandonato dico senti sai che c'è lasciamo perdere invece quel cavolo di blocco casuale ok vai che ci siamo ultimo livello di questo gameplay con 99 vite questo livello si sviluppa verticalmente aspettiamo facciamo passare questo cosone grazie fiore di riserva ok qui procediamo con cautela oh 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 e ma ho capito oh dio mio vabbè dai abbiamo il fiore di riserva no sentite sapete che c'è ho appena cominciato mi suicido e la prendo pam 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 ah ah ok qui bastava saltare da abbassati oddio che ho fatto eh supero una parte per venire colpito nell'altra ok stavolta attenzione aspettiamo ora ah ma vedi qui che scemo potevo stare qui e abbassarmi va bene non importa abbiamo comunque preso iiii la prima moneta si sentono dei botti mmm tu mi potresti essere utile vieni qui pim fungo oh non le faccio nulla ah bene vediamo un po' se qui c'è oh porca si aspetta eh non ci faccio nulla cosa ho fatto cosa ho fatto ho fatto bene qui c'è un trampolino quindi aspettiamo ora ah maledizione mi tocca prendere un rapido slancio così e così e siamo arrivati alla prima porta non la prima porta eh allora senti facciamo una bella cosa usiamo questo maledetto fiore che non è che sta qui per bellezza nooo allora aspetta prendiamolo e riscendiamo giù ok adesso si sapete che c'è amen l'importante è che abbiamo preso questa maledetta moneta stella oh boss e la terza moneta? però qui è aperto ok aspetta eh forse ho capito ci facciamo aiutare da mmm te prego non mi di che dovevo essere mini porca miseria mi sa che mi ci voleva il fuoco fungo mini niente ci ho provato 40 volte andiamo ad affrontare il boss e poi torno con un maledetto fungo mini ok oh mamma mia questa qui traballa pure eh ma se lo faccio cadere sulle punte no probabilmente non cade ecco fatto ecco fatto ok fatto ora a caccia di quel maledetto mini fungo e prendiamo anche la terza moneta ma oh oh porca miseria c'è un'altra torre di mezzo qua va bene quindi in questo mondo ci vorranno tre gameplay probabilmente ok vado a cercare il fungo mini e poi torno ah fra poco ok ok qualora non riusciste a trovare un mini fungo ricordatevi che nel castello finale del secondo mondo qui ce n'è uno perenne ok preso questo sconfiggiamo il boss e torniamo a dove staramo prima ok ragazzi come avete visto per superare questo punto bisogna essere veramente bravi perché comunque essendo piccoli siamo più lenti ci mettiamo più tempo ad atterrare e quindi superare questa parte è veramente tosta cercate di fare come ho fatto io e che ce l'ho fatta proprio per il rotto della cuffia e andrà tutto bene ora ok eccoci qui ragazzuoli stavolta penso di non averne anche bisogno del tartosso ecco fatto ok lì è chiuso non c'è nulla andiamo ecco porco cane ehm facciamo una bella cosa io qui sicuramente verrò colpito usiamo il fiore tanto il mini fungo non ci serve più non apparire lì sopra ti prego nooo vabbè calma so quello che devo fare saltiamo prendiamo il fungo cos'altro mi ha colpito c'erano delle punte lì ok non fa nulla ragazzi abbiamo comunque preso le tre monete stella ora vado ad affrontare il boss e ci vediamo fuori maledizione a tra poco giù ah fatto bene si scappa scappa vigliacco oh nuovi blocchi nuovi blocchi che ruotano con degli spontoni quindi ecco li colpiamo adesso e ci danno un fiore io stavo aspettando che scendeva come come se fosse un fungo forza e coraggio dai sceliamo questa pianta e voilà cos'è quella ho visto una cosa che ho oh un blocco legato con un filo di di seta di ragnatela oh aspetta però per prenderlo ce la facciamo si tutto a posto vai prima moneta stella recuperata e qui si entra scambiamo gli schermi così per voi resta tutto uguale mentre io mi sposto a destra oh un cilindro che ruota su una pozza di liquami di ola vai benone vita in più e torniamo su oh vedi i tubi ah facciamo straggio di piante carnivore oh mamma e si entra anche qui monetine e lì a destra c'è una moneta stella quindi dovremo provare tutti questi tubi riscambiamo di nuovo lo schermo oh porca miseria ma le piante si si rigenerano e vabbè eccoci qua bene seconda moneta stella recuperata stavolta ho anche lasciato il telefono acceso perché qualora mi arrivasse una chiamata ragazzuoli interromperò e risponderò perché comunque con mia madre in ospedale se serve qualcosa devo essere reperibile più che altro qual è il tubo ah no no la seconda moneta stella l'abbiamo appena presa ok quindi niente proseguiamo ci saranno parecchi scambi di schermo nel montaggio di questo video ci sarà parecchio da fare meno male che mi sono programmati i preset già fatti quindi non dovrò stare ogni volta ecco qua non mi dire che si entra anche qui eh ok sembra di no e allora andiamo avanti qui si sale si ma prendevamo solo monetine mi hanno scritto scusate ok non era quello che pensavo e ci ho perso una vita riprendiamo da dove ho lasciato a tra poco ok rieccoci rischiamo subito la vita ma ne usciamo stavolta ed ecco lì la terza moneta come la posso raggiungere intanto ecco forse saltando direttamente lì sopra no troppo oh grande ok bene ecco dopo tutti i salti a muro che ho fatto nell'ultimo gameplay non dovrebbe essere troppo ma veramente ok ero riuscito a salire sopra riproviamo ma davvero oh ci siamo ok perfetto meno male meno male che abbiamo fatto pratica con tutti quei saltamuro l'altra volta ma con te cosa devo fare oh fantastico una vita che è volata subito di sotto ecco facciamo attenzione a non fare la stessa fine e proseguiamo abbiamo tutte e tre le monete stella quindi siamo tranquilli oh porca beh meno male dai appena colpiti ma riguadagniamo subito il fiore del fuoco stendiamo queste piantacce piragna si entra no no ok siamo arrivati amen per i punti concludiamo il primo livello di questo gameplay bene così lì c'è una casa di Todd ma si sblocchiamola dai abbiamo 52 monete e passa tuttavia come al solito non ci andrò terrò tutti questi bonus per la parte finale che penso sia la più difficile va bene avanti allora via 99 vite e siamo di nuovo in una zona montuosa e ci sono anche questi maledetti cerchi di fuoco stecchi di fuoco che che stupidamente andiamo a prendere dritto in faccia grande Ivan beh comunque non è stata fatica sprecata visto che ci ha permesso di prendere la prima moneta stella e qui si torna là beh forse se passavo anche da questa parte non era del tutto male va bene andiamo avanti quindi qui ci possiamo anche calare bene ma sotto sopra benone fiore grazie mille continuiamo se salto accelero neanche ben oh mamma mamma aspetta ora benone continuiamo altro fiore altro fiore ma tanto lo abbiamo anche se avercene uno nella scorta non è mai male e cosa ci aspetta ok lì c'era una fascia di blocchi facciamo passare questo e saliamo porca miseria per un pelo o no penso che se mi schiaccio contro l'angolo ok non mi prende e ma stavolta sì va bene buoni ok seconda moneta stella recuperata e abbiamo preso anche il checkpoint siamo oltre la metà del livello calma salti di precisione chirurgica mmm mamma mia quanto ho rischiato piano dove sarà la moneta stella sperando che sia qui chi mi scrive ok proviamo proviamo ad andare qui sperando di aver preso la direzione giusta sì bellissimo cerchiamo di non morire ora possibilmente giù meno male che mario non ha una barra della stamina che che indica la stanchezza tuttavia sta finendo il tempo ma dovremmo esserci meno male che sono passato sopra e vai ok finito anche questo livello pam 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 e ci aspetta la seconda torre sblocchiamo anche quest'altro livello così con la scusa salviamo anche la partita salviamo ok ok e andiamo ad affrontare la seconda torre oh tapirula tapirula con tartosso che ci arriva tartosso che ci arriva addosso vediamo un po' fiore ottimo qui bisogna prendere molto bene le misure altrimenti rischiamo di andarcene addosso oh lì c'è un guscio rischiamo di andarcene addosso alle punte oh con calma vediamo se riusciamo ah ok perfetto lo lanciamo qui e ci permette di recuperare queste monetine anche se ormai qui sono superflui abbiamo la bellezza di 99 vite con tutto che ne abbiamo perse parecchie nel corso dell'avventura calma buoni saltiamo di qua saltiamo di là aspetta però eh lo sapevo io piano attenzione che il tapirulana ci porterà verso gli spuntoni no 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 non voglio morire come un pollo calma calma eccoci qua usiamo oh mamma dato un cazzotto al microfono usiamo il fiore bene proseguiamo no ho detto proseguiamo non precipitiamo e continuiamo a salire tutto fatto di tapirulana questa torre por mi sono salvato lo sapevo io eh fregato dov'è il tartosso gigante è caduto e allora porca non l'avevo vista quelle punte no non voglio andare di sotto ok ok sì perfetto pensavo che fosse ah vedi potevo anche saltare direttamente qui pensavo ci fosse un'altra moneta stella sotto non avevo ricollegato qui so qui sopra c'è qualcosa si sono contento di aver preso queste monete ma avrei preferito di no quindi è questo tubo qui ci spara sopra venone uh ehm sì calma sì facciamoci trasportare qua siamo a due monete stella una non avendo la modalità aereo inserita mi arrivano parecchie notifiche io ogni volta scatto come come una molla perché penso che possa trattarsi di mia madre no solo notifiche giustamente stiamo in contatto via whatsapp se le serve qualcosa ok intanto abbiamo trovato la terza moneta stella e siamo di fronte la porta del boss non capisco perché mi fa fare quel percorso ah perché mi sa che posso fare solo quel percorso a meno che no dovrebbe essere facilissimo vita completamente inutile anche perché oltre le 99 non si va nooo uffa vabbè pazienza affrontiamo dovrebbe esserci bowser jr anche qui eh sì oh ma porca ehi ma non ci sveglia riprenditelo ecco ho messo un secondo pausa perché pensavo mi avessero scritto di nuovo e questo gameplay sarà un pochino così vai ok fatto bene così abbiamo superato un'altra torre la seconda torre di questo mondo mi chiedo se tutti i mondi cominceranno a diventare un po' più lunghi noi siamo al sesto ci manca anche il settimo e ottavo ok certo che sì a quanto stiamo? a 18 minuti senza contare un paio di tagli che farò facciamoci un altro livello che ci importa hammer brother che ci dà un fungo mini un fungo mini e mi aspetta un livello acquatico bravo Ivan hai fatto la scelta giusta e invece forse sì perché se sono più piccolo dovrei essere anche più difficile da colpire sì ma preferisco essere colpito più di una volta anziché morire subito oh porca miseria questi pesciolini verdi mi corrono dietro teniamo le distanze ah no beh vedi mi corrono solo per un breve tratto ecco ah la prima moneta stella no non me ne importa nulla delle monete rosse qui ci sono questi mulinelli dobbiamo fare attenzione a non essere trascinati giù fungo bene già sono più tranquillo lasciami in pace tu ah no 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 via oh mamma mia continuiamo eh bravo vattene per la tua strada lasciami in pace no sono anche due io voglio vedere cosa c'è lì dentro è fatta mi sono fatto fregare no no tutto apposta molto meglio penone stelle concatenate tuttavia vedo che i mulinelli siano sempre in grado di assorbirci comunque con le palle di fuoco siamo già più tranquilli qui c'è un tubo andiamo a vedere dove vorresti andare tu eh oh mamma mia quanti sono se me la gioco bene e riesco a toglierne di mezzo il più possibile non dovrei correre pericolo tutta apposta seconda moneta stella recuperata calma no lo sapevo oh ma male che ha ancora lampeggiato questo mulinello è diverso ed era qui che c'era un passaggio segreto che ci porta alla terza moneta stella ottimo intanto qui fuori stanno facendo festa in barba a lockdown ma vabbè ognuno è libero di fare quello che vuole ma voi siete pazzi ok ci siamo uno due pazienza completato anche questo livello in più rispetto alla tabella di marcia ci siamo rientrati con il minutaggio quindi perfetto avanti vediamo che ci aspetta in questo livello comunque con 99 vite ho ben poco di cui preoccuparmi quello che mi preoccupa davvero è riuscire a trovare tutti i monetoni ok qui non si va qui non si va e allora su buono tu cosa mi dai? un fungo mini porca miseria quando non ne ho bisogno me li lanciano addosso comunque ok per il momento ce lo teniamo poi se trovo qualche upgrade oh mamma bene ecco no non mi piace ragazzuoli prendiamo il nostro fiore e usiamolo buenos e per un pelo lo perdiamo meglio os qui c'è da aggrapparsi cominciamo ad oscillare a destra e a sinistra per darci un po' di slancio via ok quindi dobbiamo appendere oh lì sotto c'è un monetone e come cavolo lo prendo? servirebbe eh questa tartaruga ci farebbe comodo ma speriamo che ce ne sia un'altra eccola eh peccato che è precipitata vediamo se respona sì come no non l'abbiamo uccisa noi quindi basta andare qui sul fungo ubriaco a parte che abbiamo anche questo quindi e porca miseria ritenta Ivan sarei più fortunato eccola bene così ed ora ed ora niente riuscirò a prenderla prima o poi da qui oh finalmente ci ho messo tre quattro tentativi per riuscirci e comunque l'importante è che ce l'abbiamo fatta ora proseguiamo con cautela su questi funghi ubriacoidi oh calma qui si cade credo non mi voglio prendere la briga di provarci quindi entriamo qui ah no riusciamo qui oh ecco un altro monetone lì e probabilmente quella tartaruga fa al caso mio yes benone oh povera rimarrà lì dentro per l'eternità attenzione a queste piantacce gumba oh basta fare i pazzi eh oh e porcaccia miseria forse è bene no completamente inutile tuttavia lì sopra ho visto ecco qua un blocco vediamo cosa ci da un guscio speriamo che serva a qualcosa comunque abbiamo due monete sì due monete stella manca la terza e ci siamo cerchiamo di non morire qui cosa c'è siamo arrivati non so se qui sopra forse c'è la moneta non lo so proviamo ad entrare in questi tubi noi siamo entrati in questo quindi proviamo questo sta finendo il tempo porca miseria ok non ho idea di dove sia la terza moneta tornerà no porcaccia miseria ero convinto che fosse la fine del livello ok ci rivediamo qui ok rieccoci qui ragazzuoli aggrappiamoci e diamoci un po' di slancio ero convinto di essere arrivato alla fine del livello e non avendo la terza moneta mi sono fatto prendere dal pal- uh eccola lì sopra benone diamoci un po' di slancio qui tocca slittare probabilmente oppla grande cerchiamo di non morire possibilmente mmm oddio che ho fatto oddio che sto facendo sono andato alla cieca maledizione comunque primo livello di questo gameplay completato con tutte e tre le monete stella bene e abbiamo sbloccato entrambe le strade sia per la casa di toad che per il nuovo livello il livello sopra lo avevamo già passato quindi andiamo direttamente al penultimo livello di questo mondo vai ok di nuovo un livello montuoso cosa sono oh i categnacci e qui e qui un altro fiore già lo abbiamo alla nostra riserva tuttavia ce lo prendiamo ugualmente non si butta niente ragazzuoli categnaccio chissà se posso liberarlo probabilmente no liberarlo come si faceva su mario 64 mmm naturalmente invincibili ce la faccio a schivarlo certo che si ehi perchè sono andato a dare un bacio a questa tartaruga non me lo spiego e qui no continuiamo a salire perchè lì ho visto oh 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 attenzione su vai così ce la facciamo si bene e lì uh perfetto vai primo monetone recuperato qui si sale ancora fiori e continuiamo a saltare ecco la seconda no porcaccia oh ma si possono liberare si però sto rischiando la vita per liberarlo no porca miseria eccoci qui cerchiamo di non niente è inutile comunque secondo monetone recuperato pardone moi marca miseria e quel tubo lì sopra invece mmm chissà se possiamo andare su sembrerebbe di no tuttavia aspettate un secondo se scendo qui ah che soddisfazione tutto questo bordello perde le monete continuiamo risaliamo e proseguiamo in curanti di tutto ok quello lì era un passaggio completamente inutile tuttavia qui c'è un cerchietto che noi manchiamo e ora moriamo guarda no ok e qui invece se salgo lì che succede? oltre a morire come un pirla niente si stanno susseguendo una serie di di sfortunati eventi che mi stanno portando che mi stanno conducendo svariate volte alla morte aspetta e questo come lo devo saltare sulla tartaruga? no aspetta scendiamo e vediamo se c'è qualcosa sotto magari un trampoli ah forse è così aspetta si allora aspetta 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 bene ok dai tutto sommato nonostante un acciacco di qua un acciacco di là ecco la terza moneta come la come la recupero? devo farmi devo lasciarmi scivolare qui a destra sperando di non incontrare un'orribile morte giù resa ti prego dimmi che non muoio morirò a meno se... ah no buono ok credo che ce l'abbiamo fatta ok continuiamo dove ci spari? di qua ok sembra che sia tutta quanta una sorta di risalita non ne capisco il senso però comunque stiamo tornando in cima va bene here we go ti prego non spararmi indietro no sta finendo di nuovo il tempo oh ok grande bene così yeah for me luigi ok quindi ci aspetta il castello finale del sesto mondo in teoria dovrebbero mancare una manciata di puntate dalla fine di questa serie ok entriamo vediamo un po' oh 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 ah ok ok ci sono delle piattaforme mobili oh mamma aspetta fiore bene così oh oh mamma pensavo che scendessero sotto il livello della lava vita qui non so cosa c'è e non mi interessa vado oltre e qui invece c'è una moneta che immagino che ci servirà il guscio di quella tar... tar... ruuuuuga morto la riproviamo no quindi aspetta adesso faccio così e trovo un fiore ecco questo passaggio oh mamma l'avevo dimenticato ok ok adesso proviamo a saltare no mamma mia hanno dei tempi sfasati queste piattaforme e porca chissà che ce la faccia ecco così si faceva ci abbiamo rimesso un fiore ma abbiamo preso la moneta stella è un casino perché sono sfasate queste piattaforme quindi tocca tenere gli occhi aperti per esempio questa qui sotto non si rinfila del tutto sotto questo masso quindi perfetto senza problemi recuperiamo la seconda moneta stella uff aio ok checkpoint qui ci sarà un fungo immagino che scemo potevo usare il fiore nella riserva per ma qui sopra posso salire no potevo usare il fungo nella riserva per avere un altro fiore direttamente lì sopra mamma mamma mia ok devo provare no porca che cavolo di morte stupida avanti riproviamo ok ora che ho la seconda possibilità usiamo il fiore aspetta in questo modo qui anziché un fungo esce un fiore e si va ad aggiungere alla nostra riserva ora rimbalziamo qui perché lì sopra sono convinto che si possa salire perché è diverso rispetto alle altre piattaforme quindi se io faccio un balzo con rincorsa sì bene terza moneta recuperata ora cerchiamo di non morire vedo i piedi di luigi quindi dovrei essere in grado bene di prendere le mie sì ora fermi tutti buoni eh fungo me lo do ricamente in faccia tuttavia se qui corriamo arriviamo ad una porta abbiamo tutte e tre le monete quindi posso andare tranquillamente dal boss finale scaliamo 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 le scale perché la vita è fatta a scale c'è chi le scende e chi le sale eccoci tutto qui beh va bene oh siamo all'aperto eh 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 cosa ci salve cosa meglio togliersi dalla traiettoria del cannone eh ci lancia delle bombe ecco perfetto si può fare anche così ma questo ci spara ai bene io me ah si si scivola porca quando dov'è che spara eccolo maledizione ho perso il tempo vieni qui tal paccia maledetta eh non è facile restare qui sopra eh ma no ok non posso fare devo aspettare che esce non lo so una volta l'abbiamo colpito e va bene ragazzi morirò me lo sento fiore fammi prendere il fiore ah siamo a tiro dei cannoni talpa ah peccato andiamo avanti continuiamo se uno riuscisse a rimanere sopra sarebbe facile il fatto è che non è non è semplice riuscire a restare ma porca non voglio la bomba mi faresti oh finalmente l'abbiamo colpito oh e questo è stato abbastanza impegnativo comunque fatto sta che abbiamo preso la chiave finito il sesto mondo e mi prende a parolacce come al solito ah bene sesto mondo completato tocca vedere quanto sono lunghi il settimo e l'ott ah beh giusto lui è già andato all'ottavo mondo vuoi salvare? si noi tuttavia ci andiamo a fare il settimo aspettate un secondo che ho un vuoto no il settimo non l'ho fatto vero? no mi sembra di no eh no ok quindi ci aspetta il settimo mondo ragazzi avanti primo livello ok vabbè va bene pure così eccoci qua in mezzo alle nuvole adesso per prendere tutte e tre le monete stella qui ci sarà una certa strada da seguire e non sarà proprio semplicissimo a dirla tutta prendiamo un fiore pelo pelo che si va ad aggiungere alla nostra riserva e saltiamo da una piattaforma all'altra state tranquilli per quella moneta stella la andiamo a recuperare subito perché questa piattaforma torna indietro facciamo solo attenzione alle tartarugacce ok ora attenzione qui di corsa e saltiamo su questo blocco e restiamoci per tutto il livello perché questo blocco ci porterà ad una moneta che altrimenti sarà inaccessibile quindi con calma con tranquillità ci rilassiamo e aspettiamo di arrivare mi posso anche allontanare dallo schermo perché tanto con il mio microfono lavalier voi continuerete a sentirmi come mi sentite sempre eccoci qua ci porterà questo tubo oppla entriamo e qui accederemo a questa sorta di livello bonus che oltre a darci tante monetine ci permetterà di arrampicarci qua diamoci un po' di slancio aggrappiamoci oppla ed ecco la moneta nascosta occhio non troppo slo riproviamo oppla anche a tempo di musica e mi sembra che non c'era altro da fare qui ci dovrebbe essere solo una vita si fatto questo ci lasciamo cadere su queste morbidissime nuvole ed entriamo nel tubo oh oh porca questi me ne ero dimenticati sono dei i cosi brutti che abbiamo visto anche su super mario bros 3 ok avanti qui cosa c'è? c'è un altro coso muoro muori comunque mi sembra che su super mario bros 3 non era possibile ucciderlo con le palle di fuoco l'unica era saltarli di sopra mentre qui mi sembra di averlo ucciso anche no cosa ho fatto? ci provo si sprezzante del pericolo ma sono un pazzo maledetto ce l'abbiamo fatta ok questo ci darà un po' di slancio e abbiamo anche recuperato una delle vite che abbiamo perso nei precedenti gameplay ci manca una moneta stella ma la andiamo a prendere subito basterà non saltare su quel blocco a tra poco ah e ci aspetta una casa stregata vai rientriamo ok atterrati qui sarà sufficiente seguire la strada normale ignorando il blocco tuttavia occhio perché potrebbe frappursi tra noi e la nostra strada quindi attenzione oh mamma salto alla indiana jones qui proseguiamo ed entriamo nel tubo checkpoint vabbè fiore inutile possiamo anche non prenderlo tuttavia occhio a queste piattaforme perché non ricordo dove portano si ok lo possiamo abbattere con le palle di fuoco ed erzo ed erzo ed ecco la terza moneta stella tuttavia ecco non ricordo se qui si poteva ah beh si è qui da qui siamo sbucati prima ed ecco fatto ragazzi fuori finito il primo livello con tutte e tre le monete stella grande ah ora ci aspetta la casa stregata tuttavia apriamo il varco così sblocchiamo tutti i percorsi vuoi salvare yes questa casa che ci aspetta questa casa stregata è un po' particolare ora vi faccio vedere perché perché in pratica è solo questa stanza oh c'è anche un fiore tuttavia da qualche parte qui c'è uno switch eccolo che ci aprirà queste porte e in ognuna di queste c'è un monetone un enigma qualcosa da risolvere prima monetona presa e ritorniamo al centro proseguiamo non tutte le porte mi sembra che sono obbligatorie però tuttavia in alcune di queste ci saranno dei bonus interessanti come per esempio qui c'è il monetone secondo preso aspettiamo che ci riporta su e qui c'è un altro blocco switch o un blocco e si aprirà per l'altra porta dai sali sali il fantasmino non ci ha dato minimamente fastidio bene qui oh dovremmo esserci oh no qui c'era un fantasmino pardon ah qui ci sono delle mani che ci indicano un blocco nascosto non è facile eccolo l'abbiamo toccato dobbiamo saltare nel punto indicato eccolo qui dalle dita beh c'era un fiore tuttavia era più che altro per curiosità avanti noi siamo usciti da lì mi sembra e dobbiamo andare qui sono smemorato ok un altro punto dove viene qui eccolo l'ho toccato lo sto toccando oh perfetto un altro p switch usiamo il trampolino per arrivarci e si sbloccheranno queste piattaforme arriviamoci prima che finisca ok porta oh qui ci sono due strade da prendere la prima è tutta a destra che ci permetterà di raggiungere il monetone mi sono fatto colpire il monetone ecco ci saremmo dovuto arrivare prima della fine del tempo il monetone sta qui sopra ragazzi ci riprovo a tra poco beh comunque a prescindere finiremo il livello da qui quindi torniamo a prenderlo al volissimo ok adesso dobbiamo andare lì in alto quindi cerchiamo di muoverci che schiva dal fantasma proprio alla matrix ok fatto terzo monetone quindi visto che l'uscita di sotto l'abbiamo già sbloccata torniamo dentro e rifacciamo la cosa andando dal lato opposto concludiamo il livello e rientriamo di nuovo e dovremo andare a cercare un blocco che luccica eccolo qui questo da cui uscirà una pianta ce ne andiamo su e ci porta scusate il gioco di parole e ci porta ad un'altra porta per un'uscita secondaria la e questa era un'altra uscita mi sono impappinato un secondo e ci porta oltretutto alla torre finale cioè alla torre alla prima torre di questo mondo tuttavia come al solito noi ce ne andiamo avanti qui hammer brother che ci colpisce subito ma fortunatamente riguadagniamo subito potenza via questo livello è a scorrimento automatico o meglio scorre su questa piattaforma che noi potremmo guidare in alto a sinistra o a destra in teoria potremmo fare una sorta di combo qui ma non ci interessa occhio a non farci schiacciare dalla parete dunque a parte il fatto che dovremmo fare attenzione se andare a destra o a sinistra il livello di per sé non è neanche troppo complicato basta fare un po' d'attenzione noi procediamo con calma cercando di stare lontano dai guai ecco il primo monetone ah se andremo tutta a destra o tutta a sinistra compariremo riappariremo dall'altra parte del livello quindi non c'è pericolo di andare fuori dallo schermo l'unico pericolo è quello di essere schiacciati da un blocco oppure beccati da una tartaruga infatti come vedete le palle di fuoco quando raggiungono il bordo dello schermo ricompaiono dall'altra parte ecco qui ce n'è una prova ancora più chiara basta che facciamo così e il guscio ricomparirà dall'altra parte il blocco lì sicuramente potremmo colpirlo grazie arca miseria a questa ruga e ti pare a te guarda come va a morire in modo stupido no ok ce l'abbiamo fatta continuiamo a salire le monete ci interessano poco ormai col pieno di vite attenzione perfetto rischio inutilmente la morte di andare a farmi schiacciare tra due blocchi ora ecco attenzione per prendere questo ci serve necessariamente la tartarughina quindi colpiamola prendiamo il guscio presa perfetto seconda moneta attenzione attenzione ricordatevi sempre che quando colpite una tartaruga e prendete in mano il guscio dopo un po' si risveglia cerchiamo di non farci colpire presa terza moneta e ce ne possiamo andare tranquillamente qui possiamo darci un po' di slancio per raggiungere il punto più alto e guadagnare una vita male non fa non a noi ma magari voi potete sempre tenere in considerazione questa cosa ok fatto altro livello sblocchiamo il percorso così con la scusa salviamo anche il gioco bene può salvare certo che sì poi no eh vabbè apriamo la seconda volta oh torci bruco che non possiamo uccidere in alcun modo e qui non si può entrare non ti arrabbiare dai via oh e qui dovremmo stare in groppa a questo torci brucone che ci porterà mi sembra quasi fino alla fine del livello in realtà non è che sia particolarmente complicato l'unico modo per cadere è veramente andarsela a cercare raggiungendo i bordi il bordo anteriore e il bordo posteriore del torci bruo quindi l'unica cosa a cui fare attenzione è ovviamente per raggiungere le monete stella da qui escono dei goomba cerchiamo di non farceli cadere in testa mi da molto l'idea di essere tipo a tre io su falcore della storia infinita oh porca e qui come ci arrivo? qui c'è un boomerang brother forse con un po' di rincorsa nooo ci ero riuscito ultima possibilità non mi interessa abbiamo preso una moneta grande no porca goomba maledetto qui che c'è? sapete che vi dico? fiore qui vieni qui non si sa mai oh qui ok ci sono dei goomba notate che sta ondeggiando sempre più forte il torci brugo e questo ci farà comodo più avanti perché questi saltellamenti ci permetteranno ecco di arrivare molto in alto ecco ad esempio così eh dai eccola ok seconda è la seconda sì non ne abbiamo persa nessuna in questi blocchi ci sarebbero state delle stelle noi siamo arrivati alla fine del brugo andiamo un po' più avanti delle stelle che ci avrebbero fatto comodo più avanti siamo arrivati sì stava tornando indietro il boomerang oh ora attenzione perché una moneta si trova qui sotto e per fare questa cosa dovremmo necessariamente essere grandi non piccoli non mini ecco qua terza moneta terza moneta torniamo nel tubo che ci riporterà su anche se potevamo arrampicarci comunque sulla sulla pianta là finito anche questo con tre monete stella ragazzuoli luigi 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 e siamo finalmente arrivati anche al primo castello di questo settimo mondo che cioè alla prima torre si c'è una torre si c'è solo una torre qui non ci sono due torri sblocchiamo questa strada di todd salviamo salviamo e ce ne andiamo a fare la prima torre avanti oigi e questa torre è veramente comoda e antifatica perché qui il rischio di essere infilzati non è continuo di più come si dice a roma ecco già stavo rischiando di essere di essere colpito avanti molta attenzione qui molta molta attenzione ecco la prima moneta stella ecco come avete visto già stavo rischiando la morte e non abbiamo neanche dei bonus di riserva le piattaforme qui sotto si muovono in modo irregolare quindi occhio lasciamoci cadere e qui dovremo calcolare il tempo in modo impeccabile per risalire perché una sale svelta ed una sale lenta attenzione ecco fatto bene avanti oh ecco vediamo se riusciamo a prendere un fungo con la dovuta cautela ehi guardate proprio all'ultimo blocco stava maledizione ok andiamo su eh qui tocca stare ancora più attenti perché bisogna abbassarsi ok vediamo un po' no non è il punto giusto ci facciamo un pochino più a sinistra ci abbassiamo un po' più al centro ecco fatto su ora no può andare dall'altro lato qua qua mettiamo intanto sblocchiamo un fiore andiamo al centro di queste punte e saltiamo sopra occhio qui sopra uff bene adesso adesso pian pianino non ci facciamo prendere dalla fretta ed andiamo ui mi sembra sì porta aspetta aspetta non ricordo c'era qualcosa qui no soltanto un fiore che tuttavia avendo la riserva vuota ci fa comodo avanti ok veniamo a salire pensavo che mi avrebbe schiacciato vabbè altro fiore lo lasciamo lì studiamo il percorso di questi spuntoni ok e ok sopra e lì c'è la seconda moneta quindi attenzione andiamo qui poi lì e qua uff torniamo qui mamma mia a posto avanti anche qui tocca fare molta attenzione studiamoci un secondo qui ok ce l'abbiamo fatta manca ah no ecco beh perfetto terza moneta eccola lì oh mamma bene occhio ah mamma mia pensavo che mi avrebbero schiacciato via boss dai che ci siamo ciao Bowser Junior ma dove vai che con le palle di fuoco che con le palle di fuoco ti stendiamo subito grande livello rosso quindi qui c'è una seconda uscita nascosta che dovremo trovare al lavoro quindi bene livello sugli alberi un attimo che abbasso un pochino qui perché finché non mi arrivano delle cuffie particolari o meglio una prolunga di un cavo che mi serve rischio di far sentire l'eco qui intanto troviamo un fiore e qui è tutta quanta una sezione fatta a trampolini quindi il livello si sviluppa verso l'alto cerchiamo ok troviamo subito una moneta stella qui c'è un blocco con un fiore è caduto ma tanto ce l'abbiamo già di riserva quindi ci interessa fino a un certo punto ora vediamo di trovare la seconda moneta vediamo da questa parte cosa c'è nulla e noi continuiamo in perterriti a salire alla ricerca di un trampolino oh 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 meno male che sono sceso seconda moneta stella quindi a ricordi logica se la prima stava a destra la seconda stava al centro la terza starà sulla sinistra vediamo un po' oh oh mamma mia per un pelo riproviamo a saltare qui oppla in teoria in teoria qui c'è qualcosa ok questo è un passaggio stai a vedere che è l'uscita secondaria ma purtroppo ci serve minimario intanto abbiamo anche trovato la seconda la terza moneta stella quindi riprendiamo il trampolino rimbalziamo e terza moneta stella presa ora andiamo a concludere il livello dopodichè andrò a cercare un minifungo e cercherò di sbloccare quell'altra uscita qui aspetta un attimo ormai conosco la bestia ecco qua distruggiamo questi blocchi aspetta mamma mia ho rischiato di fare un errore ecche io lo sapevo ok abbiamo distrutto questi blocchi perché altrimenti questa pianta sarebbe stata bloccata mentre invece così si dirige ancor più su verso le nuvole ma quanto vai su ok e ci porta a a meno che non è questa l'uscita secondaria ovviamente magari senza che mi faccio troppi problemi no trampolino monete trampolino monete trampolino monete tutto così va bene oh oh interrompi non voglio fare questo eh però tutto sommato ci permetterà di recuperare un gran numero di monete e non è male oh ok abbiamo concluso il livello vado a cercare un mini fungo mi rimpicciolisco e ci rivediamo di fronte a quell'entrata segreta che sicuramente è la strada per sbloccare l'uscita segreta altra poco ragazzuoli qui intanto abbiamo sbloccato il livello oh finalmente ce l'ho fatta ok abbiamo un mini fungo nella riserva finalmente ok usiamo questo maledetto fungo mini e cominciamo la scalata intanto siamo vicini eccolo qui anche poi qui ecco bisogna anche fare un salto difficile entriamo se dopo tutta questa fatica non mi porta all'uscita secondaria veramente spacco tutto ok uscita secondaria ce l'abbiamo fatta ci ho messo un'eternità ma ce l'abbiamo fatta bravo Mario con tutte e tre le stelle togliamo il puntatore qui e si sblocca una strada secondaria che ci permette di andare subito al castello però tuttavia io mi faccio anche gli altri livelli avanti allora bene così tuttavia magari è meglio prendere un fungo perché come mini specialmente quando ci sono di mezzo le bombe non è che sono proprio la persona più tranquilla del mondo niente funghi e wii evviva ciò nonostante ci sono cannoni ahhh ok manteniamo la calma dai abbiamo trovato il fungo ora cerchiamo di non farci impallottolare o impallinare ahhh grattiamoci il naso che tanto nelle sezioni tese prude sempre e queste bombe non le posso distruggire direttamente i cannoni 9 ok qui c'è la c'è la prima moneta tuttavia per recuperarla potrei anche provare a lanciare la bo bomba contro quei blocchi proviamo tanto se non le uccidiamo noi respawnano eccola prendiamola aia ci siamo fatti colpire come porca miseria eh vabbè però forse posso fare anche un'altra cosa uno due e voilà anche così va più che bene primo monetone recuperato ora occhio solo a questi pallottoli Bill oh nooo come sono andato a farmi uccidere comunque lì c'è un tut un tubo per mini mario mi serve il mini fungo maledizione andiamo a vedere ok ogni tanto la sorte ci aiuta siamo mini mario ora cerchiamo di non farci uccidere tanto per cominciare eccolo qui prendiam ehm non posso prendere la bo bomba e come cavolo fa aspetta aspetta forse facendole una schiacciata sopra si vai esplodi il mio onore e voilà vamos cosa c'era qui ok c'è una moneta stella che però è bloccata da dei blocchi che non so come fare non so se se mi serve una bo bomba diamo un'occhiata in giro oh mamma forse questo potrebbe aiutarmi qui ci sono anche dei mini goomba tra l'altro oh grande quindi spacchiamo tutto ma non troppo perché secondo me qui qualcosa serve ehi oh si 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 così vai 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 presa ignoro se quel tubo servisse a qualcosa ma intanto ci prendiamo una vita da lì non possiamo più rientrare quindi penso che possiamo solo andare avanti bene così due monete stella recuperate chissà se qui c'è qualche potenziamento che ci possa semplificare mamma mia grazie bo bomba la vita vai fiore ti prego non sparare ma vacca miseria ah che pazienza e non lo so qualcos'altro oh mamma ehm si quella era una vita ma amen mamma mia per un pelo monete va bene prendiamole non c'è un motivo in realtà perché abbiamo 99 vite tuttavia andiamo avanti iiiiiii no mo tu adesso mi devi dire come cavolo ho fatto a morire la ah avanti riproviamo facendo attenzione bian calma qui che succede monete monete forse qui sotto riusciamo a trovare oh un fiore avanti mamma mia quanti cannoni allora qui c'è la terza moneta stella come faccio a prenderla senza essere colpito da tutte le direzioni così non mi dire ok grande adesso andiamo avanti aspetta un po' hai visto mai manca un blocco però qui c'è un'altra bo bomba che se non la uccidiamo responerà sempre quindi torniamo qui eccola fatemela prendere no non è che c'è qualche altra bo bomba più avanti ok e andiamo a vedere cosa c'è qui sesto mondo cioè sesto livello del settimo mondo oh mamma mia ok aggiungiamo un fiore alla nostra scorta tante tartarughe qui e qualche blocco da esaminare senza farci accoppare una vita ma poco ci importa cerchiamo di cerchiamo di procedere a passo spedito ma tranquillo evitiamo di suicidarci anche perché questo mondo è veramente ma veramente tosto il rischio di cadere è costantemente dietro l'angolo anche se anche se anche se ecco la maggior parte delle volte riusciamo a sfangarla aspettiamo che sale oh ok passata anche questa anche se tuttavia io ancora non vedo monete stella qui ho un gran brutto presentimento mi sa che saremmo dovuti salire qua vabbè lo rifaremo qui intanto ce n'è un'altra la prendiamo da sotto state a vedere che questa era la seconda moneta stella e infatti hai visto mai se riuscissimo a entrare in qualche tubo magari accediamo a un'area bonus e poi possiamo tornare indietro un maledetto tubo dove si entra oh finalmente ok che succede qui monete fiori oh aspeb ah ok ok pensavo che si cadesse cioè sì sicuramente si cade ma non lì monete monete che succede se vado di qua nulla uh eccola qui adesso cerchiamo di non morire tanto per cominciare facciamoci una corsa indietro e vediamo se riesco a colpire quel blocco che prima mi ha fregato eccolo sperando che possa respawnare la pianta tanto il tempo ce lo abbiamo togliamoci di mezzo queste tartarughe bene bravissimo Ivan sei proprio un grande insomma e qui si spera ci sia la prima moneta stella anche perché altrimenti non so dove cercarla oh mamma non mi importa nulla le monete ce le abbiamo aspettiamo solo di trovare la moneta stella sperando che sì sì bene questo volevo ok ridendo scherzando a tozzi e bocconi siamo riusciti in primis a prendere la moneta stella e seconda cosa anche a sbloccare un'uscita segreta della quale neanche mi ricordavo bello e si va avanti ok quindi dunque cosa mi sto dimenticando nulla andiamo avanti credo penso di sì ok mi sto impicciando perché questo questa mappa sembra facile ma in realtà è una sorta di mini maledettissimo labirinto livello a scorrimento automatico sapete che c'è tuttavia non mi dispiace perché almeno in genere è più facile trovare i monetoni non bisogna fare avanti indietro su e giù per esplorare i carrellini quelli che dobbiamo spingere aspetta 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 vai spingi veloce preso ok ma ah ok fanno avanti indietro questi va bene non mi interessa quello mi interessa un po' di più tiè ok ok qui non si cade vero o no ehm occhio a questi carrelli che ora non so se abbiamo preso al momento giusto anche se sembrano seguire il livello monete rosse mi importano fino a un certo punto è più la curiosità di sapere cosa mi danno oh porca aspetta 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 e se prendo questo poi che faccio muoio porca miseria ma meno male che sono risaltato sopra io mi sarei lasciato cadere pensando che il livello poi andava verso il basso bene siamo a due monete stella quindi a ah ma questa ciambella le possiamo oltrepassare aspetta eccola calma calma non facciamoci prendere dal panico che ci siamo benone abbiamo preso tutte e tre le monete stella va oh mamma non so se questo tubo no non siamo ancora alla fine del livello e neanche si può entrare qui un fiore già ce li abbiamo e allora proseguiamo qui c'è un altro di questi carrellini proseguiamo spediti ma non troppo oh porca miseria qui bisogna spingerlo per farlo andare su calma non andiamo troppo di fretta si andiamo di fretta forza giù vai mario anche se credo che siamo arrivati si siamo arrivati quindi non mi importa nulla del punteggio chiudiamo il livello bene così bravo mario anche questo gameplay verrà parecchio pasticciato perché facendo avanti indietro per cercare gli oggetti e le varie cose ah qui c'è un altro passaggio un altro livello segreto che non so come si recupera ok cercherò di scoprire come farlo a tra poco ragazzi sono tornato un secondo indietro perché ho dimenticato un'uscita segreta dobbiamo usare questa bomba per distruggere questi muri ok e usando quest'altra che ora respawnerà se noi sopravviviamo potremmo distruggere la parte rimanente presto 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 qui ok finalmente ci sono riuscito ci ho messo 3-4 tentativi in realtà comunque questo passaggio ci permetterà in primis di prendere una vita anche se ormai non ci servono però di andare ad un'altra uscita infatti vedendo la mappa mi mancava qualcosa dico sto dimenticando qualcosa era questo qui oppa io intanto mi metto comodo anche i fuochi ecco questa infatti mancava e oltretutto si è anche sbloccata una casa di Todd va bene vediamo cosa c'è qui via ok credo sia un livello sotterraneo 7a quindi comunque è un livello segreto oh che cosa cavolo è questo sono bruchini cosa sono mamma mia che mamma mia che che ritorno a super al settimo mondo di super mario bros 3 tutti tubi tutte cose oh 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 Questo livello non lo ricordo proprio Minimamente Fiore Anche se ce l'abbiamo Potrebbe essere un problema Orientarsi qui per trovare Eccolo è uno Esci E come lo raggiungo? Forse è da sopra Pensate c'è un modo per incanalarsi No Non vedo Ma porca miseria Ecco Ero sicuro Ci ho messo un po' a capirlo in realtà Ci ho messo un po' non capisco perché non ce l'ho arrivato Eppure era così facile Avanti Avanti allora Questo è stato veramente un gameplay Ricolmo di tagli E bruttezze varie Oh No Convinto che uscisse una pianta Torniamo qui Ah questa era quella che ci mandava a prendere le monete E Non si può entrare lì No A parte che qui ci sono dei mini bruchini Porca miseria Ah È impicciatissimo questo livello No Aspetta voglio Controllare ancora qualcosina qui Ok Niente allora Continuiamo ad andare su Ero convinto di aver lasciato qualcosa dietro Quindi È labirintico questo livello Cioè che poi in realtà se uno volesse semplicemente arrivare alla fine Non sarebbe un problema Il punto è che se uno vuole Trovare tutte e tre le monete Diventa Un grosso problema Che poi questi bruchini Ecco lì c'è un mini tubo per esempio Dovremmo essere mini Mario Dove si va qui? Ci riporta all'inizio Ah ma qui si entra Grande Seconda moneta presa Completamente Senza ricordarlo Questo è stato un caso Questo sì Ok Aia Avanti Voi non vi immaginate Quanti tentativi sto facendo Per questo livello Ovviamente Taglierò Perché Altrimenti Si va troppo per le lunghe Ma sono già uscito qualche volta Qui intanto c'è un mini tubo E forse Quel blocco che ho visto lì sotto Ci porta un mini fungo Vediamo un po' No Una stella Che mi do riccamente in faccia Allora Cerchiamo di salire Ci manca Siamo a metà del livello Ci manca Il terzo La terza moneta stella Qui intanto ci sono dei Baby torci bruchi Sembrano Carinissimi Tanto carini quanto letali Immagino Posso entrare qui Sì Bene Porca Qui non si entra No Allora andiamo avanti Minifungo Minifungo Allora vediamo se c'è qualcos'altro Qui Eccola Eccola lì 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 E come cavolo La raggiungo Senza essere ucciso a morte Forse Forse da sopra Non riesco a vedere bene No Qui è tutto chiuso Devo tornare indietro Ci deve essere un Qualche Tubo Da qualche parte Che mi permetta Che mi dovrebbe permettere Di raggiungerla Allora aspetta Oh Eccolo Perfetto Piano Calma Ah Preso Bene così Chissà se posso uscire da qui Ora non mi importa più di niente Anzi magari se trovassi un fungo Non sarebbe male No Ah ok ok Perfetto Chissà se faccio in tempo Prima che si restringa No Da sopra funziona No Non sarebbe stato Troppo semplice Avanti Uno Due Tre Di corsa Ok E anche questo È fatto Ragazzi io non ho idea Di quanto sia durato Questo gameplay Perché senza tagli Ho superato Un'ora Siamo oltre Un'ora di gameplay Io vorrei finire Direttamente Questo mondo Ma Quanto manca Solo il castello Vabbè dai Facciamoci una tirata È venerdì Posso permettermi di farla Anche Di tirarla un po' Per le lunghe Vai Castello E oltretutto E oltretutto siamo Anche mini Siamo Alla fine Del penulti No Come Super Mario World Siamo alla fine Del penultimo mondo Di New Super Mario Bros Qui ci sono degli amperini Vai Prima moneta Ma guarda come mi sono fatto Fregare Va bene Rifacciamo E eccoci qui Stavolta sto usando Ho usato il fiore prima Cautela Altro fiore che aggiungiamo alla riserva Tuomp Porca miseria Poi Qui Una rosca A posto Avanti Porco cane Bene Di bene in meglio Poi naturalmente Non soddisfatto Non va avanti Torna indietro No Grande Altra moneta Mi dici come cavolo Ti prego Non tornare su Ok Vai Seconda presa Fiamme Ma tutto sommato Stiamo andando bene Se non moriamo di nuovo Lancia fiamme Cattivissimi Avanti Avanti Simpatici Rischio tanto Rischio forte Eccola No Li facciamo Ok ci siamo Ok Stavolta è andata Tre Monete E siamo Dal boss finale Di questo mondo Ce ne è voluta Porca miseria E' stato un gameplay Veramente Complicato E a volte Anche frustrante Che Un enorme Lakitu Un Lakitu Quattissimo Divinità Del tuono Balordissimo Ehm Ma ok Però per il momento Non sembra Che cosa stai Fattendo E' fantastico La prima cosa che fa E toglierci Il fiore del fuoco Ma noi lo bastoniamo Allegramente Che fai Che vuoi Che dici Ok Porca Fiore 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 Grazie 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 Qui Abbassate Se c'è il coraggio Ecco Mamma mia Ce l'abbiamo fatta Bene così Chiave Subito Porca miseria Di questo Cavolo di mondo Ci siamo ragazzuoli Siamo All'ultimo mondo A un passo Dalla fine Di questa serie Vuoi salvare? Sapete che c'è No questa volta Non salvo Perché non è che Mi fido Gran che mi sa Che ho lasciato Qualcosa dietro Quindi in caso Di complicazioni Sarei anche disposto A rifarmi tutto quanto Comunque cercherò Di stare attento Oh Corvi Nel frattempo Ho anche preso Un mini fungo Perché in genere Ho visto che Specialmente Nelle ultime sezioni Abbiamo trovato Dei Dei tubi piccolini Quindi Onde evitare Per sicurezza Me ne sono preso uno Questi corvi Che mi girano Intorno Tipo avvoltoi Non è che mi facciano Impazzire Procediamo Con cautela Cerchiamo Di non essere colpiti Non ci facciamo Prendere dalla fretta Oh Non sono sicuro Di poterli sconfiggere Con le palle Di fuoco Tuttavia No Maledizione Chissà se qui C'è un altro Fiore Oh sì Grande Bravissimo Ivan Fatti colpire Ok Siamo quasi A metà Del livello E ancora Non ho trovato Delle monete Stella Ok sì Come non detto Possiamo sconfiggerli Con il fuoco Un trampolino Oh Ah Ok Ok Quindi in pratica C'è una moneta Stella Ma stava più avanti Quindi probabilmente Lo dovremmo lanciare Qui sopra Vediamo se riesco A non giocarmi tutto Dobbiamo Afferrare il trampolino Benissimo E se questi corvacci La smettessero Di rompermi l'anima Lo appoggiamo qui E che cavolo Ok Beh non è così Possiamo proseguire Oh mamma Ho sentito dei fantasmini A ridacchiare Eccoli Ciao Io mi tolgo Mi pento e mi tolgo Non era proprio così Ma Oh Fungo Bene In genere Nei precedenti giochi Di Mario Bros Specialmente Nell'originale Super Mario Bros Già dal settimo mondo I bonus Cominciavano a Scarseggiare Qui c'è La seconda moneta Aspettiamo che Forse ho fatto Un grosso errore No Aspetta calma Facciamo venire qui il fantasma Così ce lo togliamo dalle scatole Sta finendo il Tempo Me la sono presa Decisamente troppo Porco cane Ce la faccio Ce la faccio ad arrivare qui No Ma guardate dove cavolo sono andato a morire Va bene Ci rivediamo qui Ok Adesso ce l'abbiamo fatta Prese tutte e tre le monete Di questo primo livello Dell'ottavo mondo Avanti così Ora Secondo livello E c'è anche una stradina alternativa La sblocchiamo subito E ci sblocca Una casa di Todd Tuttavia Prima di andare a completare il gioco Quando sarà il momento Mi farò un giro Fin dal principio Per usare i cannoni E vedere se ho dimenticato qualcosa Da sbloccare Valore mi fosse dimenticato qualcosa Lo sbloccherò lì per lì Detto questo Andiamo avanti E ho anche riguadagnato una vita poco fa Detro questo mondo Un mondo che si sviluppa in altezza Occhio perché quello comunque Lascia cadere delle bombe Cerchiamo di non Prenderle in testa Bene Che ora ce l'abbiamo Qui è tutto chiuso E allora Andiamo avanti Un tubo piccolo Ok Stesso discorso di prima Oh No Non mi toccate State alla larga Ok Ok Qui si prosegue Tuttavia Andiamo a vedere cosa c'è in quella stanza In caso farò un salvataggio rapido con l'emulatore Qualora non ci fosse nulla di interessante Ma almeno ci toglieremo lo sfizio Quindi torniamo sopra Come mini Mario Oh mamma mia che scatto Ok Ok una stanza Opzionale Non ci sono monete stella da recuperare Quindi Intanto siamo anche morti Ma per questa occasione Userò il salvataggio rapido Bene Rieccoci qui Visto che non c'era una monete stella Possiamo proseguire Qui invece Si scende Ok È in questa circostanza Che mi manca La coda da progione Da Super Mario Bros 3 Oppure La cappa di Super Mario World Il mantello Oh mamma Che fortuna Bene Questa mi ha detto bene Da lì sicuramente saremmo usciti Dalla stanza precedente Qui Oh mamma mamma Questi lanciano le bombe Va bene Attiviamo lo switch E Non so se Oh Bene C'è una moneta lì sopra Allora aspettiamo Riattiviamo lo switch Andiamo su Oh Senza prenderci le bombe in faccia Possibilmente Eh Presa Grande Grande così Quindi Ora Con calma e tranquillità Torniamo su E Eh Ah si Dovrebbe essere questo tubo qui Avanti Oh mamma mia Quanti siete Qui che cosa posso Sbloccare Ah forse posso bloccarli Quindi in teoria dovrei poterli imbottigliare qui Eh si Magra consolazione Non lo so Noi andiamo su E vediamo Mal che vada Oh Ottimo E le abbiamo prese Tutte e tre Lì c'è il tubo Quindi ora Con calma e non Chalance Io penso che potrei anche Togliermeli di torno Questi Ok a posto La situazione Si è risolta da sola Ah Entriamo qui E via Benone Presa anche qui Tutte e tre le monete Opla Buenos Nel frattempo che registro questo video Mi sono accorto che abbiamo Che ho superato i 400 iscritti E siccome sono rimbambito Non ricordo se già l'avevo resa nota questa cosa Approfitto E vi ringrazio nuovamente ragazzuoli Per essere qui con me Per sostenermi Per messaggiarmi Mi fa davvero tanto tanto piacere E detto questo Ci aspetta il primo castello Con tanto di Hammer Brother Da affrontare Entriamo Fortunatamente abbiamo le palle di fuoco Anche se non vedo Hammer Brother Oh mamma Punte Eccolo Protetto da Un maledettissimo tartosso Porca miseria Ecco io lo sapevo Facciamo una bella cosa Togliamoci di mezzo questo Recuperiamo la vita E Prendiamo il fiore Aspettiamo però che Ecco la piattaforma qui Compaia Perfetto Bis E saltiamo qui Uh Prima moneta stella Eccola qui Semplicissima Arriva la piattaforma Così evitiamo di andarci Ad impuntare Sugli spuntoni E Risaltiamo qui Cosa ci dai Nulla Porca miseria Mi sono fatto beccare E vabbè No Aspetta Aspetta Andiamo qui Mamma mia Pensavo di essermi Giocato la partita Andiamo qua E rieccoci sopra No Maledizione Va bene Continuiamo a salire Attenzione qui Ok Fungo Grande Oh Bene Qui ci dovremo abbassare E farci spingere Salve Dai Oh Ah ok Aspetta un po' No 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 Oh Aspetta Calma Qui bisogna fare Oh porca Dai Oh Bene ma non benissimo Io poi mi sono lanciato qui Senza sapere neanche Se Gra No Togliti Togliti Molodizio Ah Benissimo Seconda moneta Ma Vacca Boia Ok Ero preso dall'enfasi Non ci ho fatto caso D'accordo Ci rivediamo lì Eccoci qui Stavolta Ci abbassiamo E proseguiamo Mi sono fatto prendere Veramente alla Sprovvista Chissà se qui possiamo salire Che ci porta da qualche Altra Calma Aspetta Ok no Solo monete Ah Naso Quindi dobbiamo andare A sinistra Questa non ci schiaccia Vero? No Ah però Attenzione che Se non stiamo attenti Ecco Prendiamoci la comoda Aspetta Togliamoci 1 2 Bowser Bowser Jr Che con le palle Di fuoco Possiamo ponciare Per le feste Senza tanti problemi Bene così E come al solito Scappa Ma non potrà scappare Ancora per Per molto Ok Ok questo Apparentemente Dovrebbe essere Dovrebbe essere L'ultima parte Del Del gioco Dovrebbe Penso Ok A quanto stiamo? Sì Abbiamo il tempo Per fare ancora Qualche livello Sblocchiamo il passaggio Abbiamo 67 Monete stella Più che sufficienti Penso per sbloccare La maggior parte Delle cose Ok Proseguiamo allora Di nuovo Con 99 vite Qualche oggettino Qui No Tanto Comunque Abbiamo tutto quello Che ci serve Uh Livello subacqueo Eh vabbè Pazienza Tanto il fiore Ce l'abbiamo Attenzione Che ci sono Queste anguille Qui Che cercheranno Di acchiapparci Ma Se nuoteremo Con le dovute precauzioni Non dovremmo avere Troppi problemi Del cerchio rosso Non me le può fregar Di meno Non so come ho fatto A non colpire quella Ma Bene così Dunque Qui ci sono delle Monete Ok Saliamo E siamo Siamo già arrivati A metà livello Ah eh Lo sapevo io Ok Qui dovremmo nuotare Perché c'è Quest'anguillo Una gigantesca Che ci sta correndo dietro Quindi Cerchiamo di non urtare Contro Anzi Sapete che vi dico Ecco Con questi tubi Potremo anche Accelerare il passo E distanziarla Un pochino Teniamo gli occhi Aperti Perché qui Sicuramente C'è qualche Moneta stella Cerchiamo di vedere Sia sotto Che sopra Mamma mia Eh Non vedo Oh Eccone una Bene Avanti Oh Eccone Un'altra Ho perso tempo Maledizione Mi ha preso Ok Continuiamo a nuotare Ottimo Un po' di stacco Oh Porca miseria Quel pesce Meno male che non mi ha colpito Non urtiamo queste bolle arancioni Perché altrimenti ci risparano indietro E questo Ci fa molto comodo Eccola E anche se veniamo colpiti A questo punto Oh mamma Ci siamo Ci siamo Ci siamo E lui Era lui Benone Abbiamo preso Tutte e tre le monete stella Mi domando cosa ci fosse In quel tubo Ma francamente Va bene così Tre monete stella Fanfara Del primo Super Mario Bros E livello completato Terzo livello Dell'ottavo mondo Mamma mia Posso sbloccare subito Questa stradina Che mi porta A questa casa di Todd E con questo Dovremmo aver Praticamente Concluso Le strade Da sbloccare E ci giochiamo Il penultimo livello Dell'ottavo mondo Spostiamo un po' il cursore Ok Sempre tutto tetro Naturalmente Ragni Ragni Tigrati Ma fortunatamente Un fiore del fuoco Ci viene in aiuto Ma questi Ricompaiono sempre Brutta 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 Cosa Ecco Quindi Oh oh Santo fiore del fuoco Attenzione Perché tornano Cerchiamo di non farci colpire Anche se Qui Diventa veramente Cosa difficile Specialmente Per chi ci sta mettendo piede Per la prima volta Come il sottoscritto Ok Fortunatamente Lo abbiamo colpito Anche da sotto Aspetta Calma Lì sopra c'è un passaggio Ah Peccato Ah Doppio peccato E quindi adesso Che mi invento Come Lo raggiungo Quel pezzo Oh monete Vabbè Potrei Rimbalzare sul ragno Ah Forse da qui Aspetta Attenzione Aspetta Oh mamma Non voglio morire Vediamo se A parte che potrei Prendere Una bella rincorsa Sì ok Ce la posso fare Ok Ecco fatto Ah Grande Ok E qui Abbiamo fatto Bene Fiore del fuoco Che si sta Rigalando Utilissimo In queste sezioni Ma comunque Non hanno un punto Di spawn Standard Questi appaiono Proprio nel punto In cui mi trovo Io Vigliacchi Oh Altra moneta I ragni Non ci sono Ah Buenos Oh stella Avanti allora Io tuttavia Procedo con cautela Via via Allora Oh No Pussa via Il fatto di questi ragni È che compaiono Un mini tubo Allora aspetta Abbiamo il mini fungo Chiamiamolo Preso Quindi Cerchiamo di andare Qui sotto Senza morire Oh Vai Sta pure finendo Il tempo Porca miseria Lì C'è una moneta stella Ottimo Stella Così Se riuscissimo A prenderla Possiamo andare Di corsa È la terza moneta stella Perfetto Calma Presa Ottimo Perfetto Abbiamo ancora La stella Ok Ci siamo Mamma mia Fatto anche questo Con tutte e tre Le monete stella Grande Bravo Mario Che faticata Quindi Ipoteticamente Adesso E saremmo arrivati All'ultimo castello Solo che adesso So che non è L'ultimo castello Quindi Affrontiamolo E vediamo che succede 99 vite 99 vite Oh Questo che fa Ah vedi Inverte Le piattaforme Ok Teniamolo presente Sicuramente Uh Grande Giove Bene Quindi questa L'abbiamo presa Essere Mini Mario Non è stato Così male Dopotutto Proseguiamo Un fungo Grazie Ah Qui ci sono altre Piattaforme Maledizione Bene Qui c'è Un'altra moneta stella Quindi Facciamo apparire Ehm Cosa mi Oh Aspetta Perfetto Ah Non so se ho fatto bene Ah ok Siamo già piccolini Ah Corda Aggrappiamoci Diamoci un Po' di slancio Speriamo che qui ci sia Almeno un fungo Sì Ottimo Ora Facendo attenzione A queste piattaforme Otteniamo Un fiore del fuoco Ok Andiamo Corda E E qui c'è Un sottopassaggio Per una piattaforma Che però non appare Sicuramente dovevamo Invertire Uno degli switch Precedenti Ok Rientrerò E ci proverò Nel frattempo Andiamo a sconfiggere Quello che apparentemente Dovrebbe essere L'ultimo boss Del gioco Oh Calma Su Super Mario Bros 3 Queste statue Sparavano i laser All'ultimo mondo No Ok Non ce ne sono Avanti allora Oh Bowser Chi ci mandi contro Stavolta Uh Skelo Bowser Mi sembra che si chiama Bowser Scheletrico Bowser Assuto Probabilmente Eh Le palle di fuoco Non gli fanno nulla Eh Ok Come l'ho detto Andiamo avanti Ecco Ipoteticamente Avremmo finito Super Mario New Super Mario Bros Visto che mi avete anticipato So che non è qui la fine E infatti Si accolla Bowser Junior Porca miseria Se si accolla Quindi Eh sì Infatti Il gioco prosegue Sono comparsi Altri quattro livelli Una torre E Quello che in fondo Penso sia il castello finale Va bene Tuttavia Prima di entrarci Voglio tornare nella torre Per prendere Questa moneta stella Che ho mancato Salviamo Naturalmente Rientriamo E ci vediamo direttamente lì Per vedere se riesco a cambiare le cose A tra poco Ok ragazzi L'abbiamo fatta apparire Anche se non ho capito come Sicuramente Ho invertito uno degli switch Va bene Quindi Andiamo sotto Non ho ben chiaro come ho fatto In realtà Comunque l'importante È che ci siamo riusciti Oh porca Bisogna aspettare Che ritorni la piattaforma Eccola Ok Va bene Quindi fatto Riaffronto il boss E ci vediamo fuori Via Ok eccoci qui E abbiamo ottenuto Tutte le monete Ora Prima di proseguire Io me ne torno indietro Ai primi mondi Per sbloccare Tutti i cannoni Che abbiamo trovato Così vediamo anche Se li abbiamo trovati tutti Uno eccolo qui Infatti sono ancora Qui Sono degli effettivi livelli Infatti Non è che Si usano sulla mappa Quindi questo ci portava Al quinto mondo Ok Oh Sarebbe stato un buon metodo Per tagliare Parecchie parti di gioco Però del resto Questo magari può essere utile In caso di speed run Vediamo un po' Ci sono anche Delle case di Todd Che ancora Non abbiamo visitato Oh E lì c'è Un altro cannone Ok Poi Mal che vada Il gioco finito Se non lo vediamo Completato Torneremo a fare Le parti Che abbiamo mancato Per ora Questo ci manda Direttamente all'ottavo Allora mi sa che Non li abbiamo Sbloccati tutti Ok farò una rapida ricerca Fino a trovarli tutti Ok Ce n'è uno Al secondo mondo Che è ancora il rosso Pogliamo il cursore Entriamo anche in questo Che ci manda Al quinto mondo Ok Poi andiamo al terzo Vediamo un po' Eccolo qui Questo qui E' ancora rosso Questo ci sarebbe spedito Al sesto mondo No Ok Bene così Anche qui Al quarto mondo Ce n'è uno E ci spediva Al settimo mondo Avanti col prossimo Intanto siamo arrivati Al sesto mondo Qui c'è Una casa di Todd Che ancora Non abbiamo sbloccato Salviamo E qui non c'erano cannoni Ok ragazzi Cosa importante Come mi sembrava Di ricordare Ho dimenticato Di sbloccare Una strada alternativa Che è Per la precisione Questa che porta A questo fungo Qui Era Qui L'avevamo anche trovata Ma l'avevamo lasciata In sospeso All'inizio del gioco Ricordavo cos'era C'era un mini tubo Da trovare Ho già rimediato Un mini fungo Quindi entriamo E sblocchiamo Anche questa Se ora quel blocco Mi dà un mini fungo Guarda Con la fortuna Che mi ritrovo Ah beh Ok Praticamente Inutile questo Ma comunque Arriviamo al punto Che ci interessa Che dovrebbe essere Posso spaccare Tutto Ma non vedi Posso anche spostare Ah I tubi Appena scade Non ci facciamo Accoppare Eccolo qui Il punto è questo Quindi Usiamo il mini fungo Ce ne andiamo Qui sotto Eh me l'ero proprio Dimenticato E da qui Troviamo L'uscita segreta Ma guardate Meno male che sono Tornato indietro A sbloccare I cannoni Picco 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 Ed ecco Sbloccata Anche questa parte Ok Dunque ragazzi Io ho girato parecchio Per risbloccare I cannoni Per vedere Mi sono fatto Tutti i mondi Per vedere Se avevo dimenticato Qualcosa E al momento Mi sembra Di non aver lasciato Altre E invece Si ce n'è una Anche qui Maledizione Ok Andiamo a vedere Ecco Questa strada qui L'avevo Dimenticata Sblocchiamola Salviamo E anche qui Abbiamo sistemato Perlomeno spero Se sto facendo Il ragionamento giusto Anche qui Al quarto mondo Dovremmo aver Sbloccato tutto Mi sembra Bene Quinto Sì Anche qui Sesto Ragazzi Poi naturalmente Se mi sta sfuggendo Qualcosa Fatemelo notare Nei commenti Magari dici Non è vero Hai detto che hai sbloccato Tutto Invece ti sei perso Un livello Per ora Mi sembra Di aver Sbloccato Tutto Ok Quindi Manca solo Di proseguire Il gameplay Con i prossimi Livelli Sono 4 livelli 1 3 1 2 4 livelli Una torre E il castello Finale Quindi Cominciamo Mamma mia Quanto scatta Sulla mappa Ma del resto Quando non si ha Un pc potente Questi sono i risultati Ed eccoci qua Mondo immerso Nella lava Come è giusto Che sia Nel mondo finale Siamo Mini Speriamo di trovare Al più presto Un fungo Piattaforme Traballanti Carina Carina questa musichetta Comunque Ok Troviamo un fungo E torniamo ad essere Mario O meglio Per quello che dice il gioco Ora saremmo Super Mario Gli attaforme Siamo vendi Ed ecco Il primo monetone Ok Togliamoci Occhio a queste Sfere di fuoco Che dovrebbero essere Dei foto Bu Oh mamma Lì c'era Un punto di domanda Ma Vediamo un po' Se riesco a fare No Lasciamo perdere Perché qui Cade tutto Bene Siamo riusciti a farci colpire Nonostante tenessimo Ecco Un guscio in mano Potevamo Avere un fiore Ma Ci attacchiamo La grande Va bene Comunque Comunque devo ammettere Che È abbastanza lineare Questo livello Non sto Avendo nessuna difficoltà A trovare le monete No Ok Zona sicura Niente di che Andiamo avanti No Ero convinto Che fossero Piattaforme Stabili Ok Oh 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 Porca Caccia miseria E ora Ah ok ok Respondono Quindi Vediamo se riesco a tentare Con un agile balzo Ok Non avendo ucciso I nemici In teoria Dovrebbero Respaunare Quindi noi Torniamo indietro Maledizione Se torno ancora più indietro Ricompaiono No Bene Ah ok Sì 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 Bene Allora Andiamo pian pianino Dov'è la tartaruga Dov'è la tartaruga Sì Ok Ce l'abbiamo fatta ugualmente Bene Così Tre monete stella E Concludiamo Il primo livello Di questa seconda parte Dell'ottavo mondo Bien Bien Avanti Allora Secondo livello Non sembrano esserci Uscite secondarie Non sembra esserci Nulla di strano Molto lineare Vai Ok Noi Andiamo di qua È il classico livello Dove si può andare Sia a destra Che a sinistra Uh Non vedi Possiamo colpirle anche da sotto Non ricordavo questa cosa Quindi se noi ora Giriamo di qua Ah ma lì c'è una moneta però Come Come la prendo Ah ok Così Semplice Facile Quindi Continuiamo a salire Prima moneta Stella Stella recuperata Non voglio perdere Il fiore del fuoco E ne prendiamo anche un altro Per la nostra riserva Qui c'è un bivio Seguiamo le monete Ma c'è la lava Che sale Porca vacca No Io me la stavo prendendo Anche con Meno male che sono andato A passo spedito Calma Posso farcela Non ce la farò mai Se ce l'ho fatta Via Ecco ora che ho visto Che c'è la lava Mi sto facendo prendere Dall'ansia Ma guarda che spettacolo Questo è un omaggio A Mario Bros Mario Brothers Le piattaforme con cui Colpite da sotto i nemici Sì ma io ho la lava Che mi sale Ecco Perfetto C'è la lava che sale E noi saliamo di Oh no Oh mamma Avanti No Caneboia Rifacciamo Ecco fatto Ora ci siamo semplificati Molto le cose Tre monete prese Andiamo Finito Ok Aspetta Cosa c'è qui a sinistra Non vorrei che ci fosse Anche qui la lava Nulla Ok Una traccia di monete Ah ok ok Era solo un modo Per prendere la bandiera Dall'alto Bene così ragazzuoli Anche questo livello L'abbiamo finito Con tutte e tre Le monete stella Ecco salvo La morte in questo livello In realtà Non è poi così difficile Bene Terzo Via Ah mamma mia Ok Livello Lineare A scorrimento Oh mamma Saltiamo qui E Recuperiamo Un altro fiore del fuoco One Two Cia 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 Three Four Oh mamma Cosa sto facendo Oh porca Un hammer brother Obeso Qui sotto Ah occhio Si corre E non si cade di sotto Bene bene Prima moneta stella Recuperata E Ok Continuiamo Come faccio a farmi cadere qui Mamma mia Meno male che ha fatto Quello scattino Per andare a tempo Qui che cosa c'è Oltre al checkpoint Guarda adesso Per andare a fare Il cretino Un altro fiore del fuoco Tiè Qui Qui non si entra Proseguiamo Oh mamma mia Fire brother Eh io lo sapevo Che mi doveva colpire Ok Oh ma una stella E allora corriamo Eh qui Forse posso fare Un salto Di rimbalzo Sì Non ho capito L'utilità effettiva Di questa stella Forse per Togliere di mezzo Tutti questi Cupa Monete Un Un boomerang Brother C'è mancato un pelo Ecco fatto Dai Boomerang Bene Due monete stella Pam 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 Aspetta Buono Come ti levo di mezzo Con tutta la dovuta calma Prendiamo un fiore Io devo contorciarmi Per arrivare Al puntatore Perché ho il microfono Di mezzo Dunque Togliamo di mezzo Questo Attenzione Ecco qua Sederata leggera Così da non sfondare Tutto Aspetta calma Fermo La buono Ok cerchio rosso Donde ci porta Una Due No Che cosa comoda E recuperiamo Le vite perse In precedenza Avanti così Altro livello Terminato Credo che questo sia Il gameplay Più veloce Che abbia mai fatto A New Super Mario Brothers Quindi Penultimo livello Prima Della torre Avanti Tutto scattoso Tutto scattoso 8 3 Avanti Oh 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 Non sto capendo cos'è successo Ma intanto la prima Dietro c'è un vulcano che erutta E iniziano a cadere Mamma mia Sassi incandescenti E pietra pomici ovunque Noi prendiamo un altro fiore Ok Attenzione A schivare Queste sono tipo Delle bombe Ho capito Queste sono bombe semplici Ma nel momento in cui Vengono a contatto Con Le palle di fuoco Questi massi incandescenti Giustamente Si attivano Ha un senso Io le elimino prima Così Mi risparmio tante complicazioni 1 2 Grande fiore del fuoco 2 No 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 Ok Ok No cosa faccio Le sparo Perché le sparo È Anni e anni di Stinto Porca miseria Vai altro fiore del fuoco E vabbè Ma non lo so Non lo sapevo Che saltassero in aria In quel modo Oh ma qui c'è un Tubo per un fungo mini Va bene Finisco questo livello Vado a prenderlo E risolviamo anche questo Qui intanto c'è Un'altra moneta stella Se è la seconda Forse non sarà neanche necessario Eh no Era la terza Quindi la seconda moneta stella Si trova In quel buco Ok siamo morti Pausa Vado a cercare un fungo mini Così facciamo tutto quanto In un solo colpo A frappe Ok ci siamo Ho trovato Un fiore del fuoco Nel frattempo Ho recuperato il fungo mini Ed ora Possiamo finalmente Entrare Qui e recuperare Ma che cavolo Ok dobbiamo entrare In questo labirinto E arrivare No ok strada sbagliata Non sono mai stato bravo Con i labirinti Maledizione Allora Dobbiamo trovare L'entrata giusta Eccola Ok Cioè spero In genere dove ci sono le monete Si va bene Qui sotto Ok adesso dobbiamo uscire Non qui ma di qua Sotto No di qua Spero Si altre monete Bene ci sono passato Per un attimo mi è preso il panico Credo di stare andando Dalla parte giusta Si 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 Eccola Buono E allora usciamo Grande così Seconda moneta stella Recuperata Togliamo il pulsore Attenzione che qui ci sono Queste bombe Porca cia miseria Siamo anche mini adesso Che cosa Ah ok no Pensavo fosse un altro Maledizione Oh mamma mia Ah ok Aspettiamo Facciamo No non voglio morire ora Come faccio Forse con un salto Rimbalzo Si Ok ok Ne siamo usciti Abbiamo tutte e tre le monete Quindi la fine del livello Non dovrebbe essere Lontana Che non ci facciamo Accoppare prima Fungo 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 Eh no Non mi importa nulla Corri Mario Si 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 Fatta pure questa Con tutte e tre Le monete Stella Wow Ok siamo arrivati Alla prima torre A quanto stiamo Ma si dai Se non c'è L'altro mondo Che mi avete anticipato O altro Conto di finire Il gioco stesso Oh porca miseria Il solito Ecco Bravo Ivan Perdi anche Possibili potenziamenti In pieno stile Super Mario World Nell'ultimo castello Nell'ultimo castello Ritroviamo Questa sorta di Di funivia Di serpentone A cui appoggiarci Facendo Estrema attenzione A non farci Colpire Qui sopra Non c'è nulla Sembra di no Ocio Alle punte Ivan Oh ok Moneta stella Recuperata Qui Nulla Solo un checkpoint Certo Non mi sarebbe dispiaciuto Avere un bel fiore del fuoco Tuttavia Per ora Andiamo avanti Oh Mamma mia Che Cavolo di gioco No Oh Un cerchia Ma sai che ti dico Ma prendiamola Hai visto mai che ci desse Un fiore Un fugo Sì Bababia Per prendere quel fungo Stavo rischiando Di perdere la vita Ok Un elegante Scaletta Per noi Dove si va Oh Fiore fiore Sì Bene Ok Oh moneta stella Presa Ma porcaccia Di quella Oddio mio Oh no Porco cane Lo sapevo Attenzione Appena sale un gradino Eccolo Perfetto Qui c'è Qui c'è qualcos'altro Un'altra moneta stella Presa Grande Ora Ma porca Oddio Se non fossi salito qui sarei morto Ok Siamo arrivati Dal Dal boss Entriamo Ci sarà sempre Bowser Bowser Junior Ok ok Giochiamocela bene Che fai mi lanci i gusci Tieni Buono Oh Vai Oh stava per finire Da solo nella lava Yeah Finito Bene Così Anche l'ultima torre L'abbiamo risolta Come al solito Lui si rialza Quindi Ci manca solo L'ultimo castello Non stiamo male Con il minutaggio Ma visto che è l'ultimo episodio Ragazzuoli Dai Tu che ci importa Ci facciamo Una tirata Salviamo Ed ecco Il castello di Bowser Entriamo Chissà che ci aspetta Qui dentro Ok Classico stile Da castello finale Bene Una porta Qui non c'è nient'altro No E allora proseguiamo Una porta sul soffitto Ma porca miseria Queste trovate Va bene Oh Lancia fiamme Mi si sta bruciando il cappello Eh Dispersiva questa parte Ma quella fiamma Non si spegne Ah perché lì c'è una porta Sul soffitto Quindi potremmo andare lì Una volta trovato lo switch Per capovolgere la camera Oh No Mi ero salvato Ci sono andato sopra Da solo Qui dove si va Un'altra porta Sotto sopra Nulla di che Proseguiamo No fermo Ivan Non timore Niente potenziamenti Niente funghi Oh E quello Potrei provare a fare Delim No aspetta Probabilmente Lo potremo riprendere dopo Salve Un tuomp Con gravi problemi Di sora peso Altro switch E porta sotto sopra Quindi Ti prego dammi un fungo Oh Grazie Ok da qui Rigiriamo la stanza E andiamo sulla porta Sulla sinistra Facciamogli dare un'altra bottarella Ok Qui non c'era nulla vero? No E allora avanti Quindi ora Dovrebbe essere Ah Credo che siamo usciti Dalla porta Che abbiamo visto prima Qui c'è la fiamma perenne Quindi in teoria Si No Maledizione Fiamme perenni Qui c'è una porta Tuttavia Siccome io sono scemo Voglio vedere cosa c'è qui Facciamo che andiamo avanti E basta Entriamo Ok Moneta stella Sperando che sia la prima Perché altre non ne ho viste In giro Attenzione Oh porca Non l'avevo visto Bene qui Andando a sinistra Oh porca Dovremmo poter raggiungere È la prima Ok Perfetto Non ne abbiamo persa nemmeno una E il naso Ho già queste punte Bene Tartosso Togliti dalle ossa Per non dire un'altra cosa Pungo vero? Sì Grande Grande Qui continuiamo a scelta Ma Ok Quindi lui Capovolge E credo che dovremo continuare a salire a questo punto Io seguo il mio istinto ragazzuoli Poi vedremo Qui non c'è nulla Perché questa è la zona che abbiamo visitato prima Non sono sicuro di stare andando dalla parte giusta Invece E invece mi sa tanto di sì Credo Spero Mi auguro Qui non ci si può andare C'è qualcosa che non mi quadra Però aspetta Tutte porte Ah vedi Il cursore resta Continua ad indicarci che siamo all'inizio del livello Mentre in realtà ecco siamo a metà Signore Grazie No Ok Omaggio Al primo Super Mario Bros Ragazzi Un castello infinito In cui dobbiamo trovare La strada giusta Quando prendiamo la strada giusta Si sente un suono positivo Quindi occhio Cioè anzi Orecchio Bene Giusta anche questa Sbagliata Ok Qui Un veterano di Super Mario Bros Si sente Praticamente a casa No Ops Colpa mia Allora Concentrazione Bene Sta ricominciando anche a piovere In genere La strada più difficile Esatto È quella giusta Altra moneta Altra moneta stella Oh porca Eh sì Aspetta Qui tocca fare un po' Bene Così Siamo Cavolo ne abbiamo dimenticata una Dovrò tornare indietro Maledizione Vabbè per il momento andiamo avanti Siamo arrivati Al boss finale Credo E poi Tornerò a cercare la moneta Per ora Andiamo La moneta Rimarrà una cosa in più Per adesso Silenzio Siamo davvero Nella stanza finale Credo Oh Bowser Ammazza quanto è magro La principessa Porco cane L'ha fatto resuscitare E dobbiamo affrontarli Insieme Ok Fortunatamente abbiamo le palle di fuoco Bowser Junior Ce lo siamo tolto di mezzo In un attimo Fortuna che abbiamo le palle di fuoco Altrimenti non so Cosa mi sarei potuto inventare Sicuramente c'è Un altro modo Ah vedi Davanti c'è l'interruttore Quindi ok Se non avessimo avuto le palle di fuoco Lo avremmo potuto affrontare Alla classica maniera Comunque Abbiamo lottato Da veri uomini Da veri traulici italiani E Niente Schiacciamo e vediamo Dovrebbe essere finito Oh vedo sotto la colla Besino E ora L'abbiamo finito Ci sono riuscito Sembra di sì Naturalmente Devo tornare A prendere quella moneta Perché altrimenti Non posso considerare Il gioco finito Aia Che fosse questa La piattaforma Che ho attivato prima Mi sa di sì Sì Era questa Perfetto ragazzi Abbiamo trovato Anche qui tutte e tre Le monete stella Vado a finire nuovamente Il gioco E poi vedremo Il da farsi A tra poco Ok ragazzi Ho recuperato anche Questa terza moneta Tuttavia Siamo a 79 monete Quindi Una da qualche parte Me la sono dimenticata Passerò in rassegna Tutti i livelli E andrò a vedere Dove me la sono dimenticata Di nuovo A tra poco Mi aspetta Una Una sfacchiata Come pochi E inoltre Con l'occasione Aprirò anche Tutte le case Di Todd Penso Così vediamo Se dipende Da quello Ah tra poco Eccone una Siamo al Sesto mondo La prima torre Del sesto mondo Ci manca La terza moneta Stella Ok Vado a cercarla Via Ragazzi Era questa Ma io ero convinto Di averla presa Porca miseria Forse ero morto Sapete che non me lo ricordo Vabbè non c'è problema Andiamo Usiamo il minifungo Saliamo qui sopra E recuperiamola Ci ho passato Un'eternità Qui Porco cane Ok Anche questa L'abbiamo recuperata Ok Sconfitto Bowser Jr Ora Dovremmo averle Tutte quante Ottanta Escluse quelle Che abbiamo Già venduto Facciamo un rapido Salto Perché ho scoperto Anche che in alto Te lo dice Tutte tue Se le abbiamo prese Comunque sì Dovrebbero essere Tutte quante Tutte tue Tutte tue Ok Ora Mi sembra che basta Tornare all'inizio Era questa la casa di Todd C'è una casa di Todd Dove dovremmo poter Eccolo qui Comprare Gli sfondi Per Il secondo schermo A 22468 Ok sì Perfetto 20 monete Comprando questi sfondi Come vedete Nello schermetto A destra Andrà a modificarsi Il tema Fantastico Io penso che Probabilmente Lascerò Questo Il tema Del primo Super Mario Bros Ok Ora Dovremmo averlo Finito al 100% Tutte spese Ok Può salvare Certo Ora Torniamo a vedere Il menu principale Salviamo Un'altra volta Ed usciamo Vediamo un po' No Ancora due stelle Perché Ah forse Perché non ho sbloccato Tutte le case di Todd Bacca Ok Credo di aver trovato L'intoppo È questo punto qui In cui manca la strada Perché io qui Ho preso solo L'uscita segreta Non ho mai preso L'uscita normale Quindi Andiamo direttamente Alla fine Per sbloccare L'uscita principale Ed eccoci qui Con tanto di vita Ora Se non è questo Non so più Che fare Perché penso Di aver sbloccato Tutte le cose possibili Immaginabili Vediamo Mi era passata Sotto il naso Questa Ok Salviamo Ed usciamo Vediamo un po' Se era questo Esci Ecco fatto Tre stelle Ragazzi Completato Al 100% In tutti i suoi Segreti In tutte le sue Sfaccettature In tutto 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 Tutto